di ruins è abitudine ragazzi cioè lunedì non è lunedì senza ruins e non è lunedì senza comics universa ragazzi facciamo una breve diamoci un tono proprio sentiamoci dei signori buonasera pacman il volpino buonasera alessio bentornato tra avatar buonasera 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 se non avete ancora seguito tra avatar sui suoi account instagram e facebook fatelo altrimenti si è dei polpini maledetti pampirelli del cavolo che venga stamano comunque qui siate bentornati bentornati prima di cominciare questa manica come al solito e vi ricordo le solite pappardelle che ormai vi sarete imparati ripeto lo stesso like alla pagina facebook di star wars galaxy comics universe ai account instagram il nostro account su youtube potete abbonarvi attraverso twitch prime al nostro my twitch voi non spendete assolutamente un euro noi invece possiamo incassare per poter comprare la dracula che la dracola che ancora devo capire che cacchio di bevanda del cavolo sarà buonasera lorespo buonasera feri 28 04 95 prima di partire e andare oltre piccoli aggiornamenti allora innanzitutto ringraziamo per gli abbonamenti di con il 98k sema bomb 9 1 2 che in realtà è simile è colui è colui che ci ha insegnato al mondo che nicolas cage ha in giro con i led per le autostrade questo ti ringraziamo marco m mancia luke 0 3 97 e lo stesso fede 28 04 95 io voglio fare dei piccoli saluti brevi 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 e partiamo immediatamente con il botto quando non tutto capo buonasera saluto innanzitutto tutta la ginkana gang ma lo so io che cosa vuol dire e sfava il topo del ghetto e il petty e soprattutto una nostra grandissima fan elena ma qualcuno capirà con me questa è una cosa mi devo fare stasera detto ciò detto ciò aspetta ruins blade trinity perché c'è allora io capisco che dobbiamo riadattare un pochino il concetto no del vampiro e tutto quanto ma citando un finisce grandissima esattamente ma citando un personaggio storico alla hitler chi è cresciuto come me con dracula di bram stalker no ma poi sto scemo e ditemi voi se sono scemo io ma può andare in giro con l'armatura di dracula che sembrava più sempre sembrava tipo non so se avreste le puntate degli ultimi sei di power rangers che ci hanno quei costumi che sono talmente finti ed era il 2004 di paura che c'è quindi tanto per capirci e soprattutto la dracola la bevanda dracola fa figo meraviglioso ragazzi a voi a voi e prego cioè iniziate voi io ho un momento di un attimo ricapitola l'idea vai tramitar tranquillo allora che dire di questo terzo film di una trilogia che in realtà è solo una bilogia questo è un capitolo apocrifo non esiste esatto esistono evangeli apocrifi potrà anche esistere il blade apocrifo e questo proprio sinceramente allora dovendo riassumere questo film in tre parole credo che queste sarebbero mancanza di rispetto di rispetto a tutto potresti spuntare la fine tombola a non feso qualunque cosa esistente perché allora manca di rispetto diciamo ai due film precedenti perché prende le caratteristiche di quelli e le rielabora malissimo quindi prendendo scene prenderò le scene d'azione con sotto la musica e qui le fa male fa male 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 prende un personaggio come quello di blade e proprio lo copialla che comunque non è che è il personaggio più complesso del mondo però nel suo riusciva ad avere dei punti di conflitto a cui proprio ciao e in teoria il regista è quello che ha comunque sceneggiato sia questo terzo film che i due precedenti quindi doveva sapere di cosa stava parlando ma a quanto pare tutto il lavoro bello l'ha fatto i registi che è palese ma anche di rispetto ai fumetti ma proprio come media nel senso sia i fumetti che al cinema che continua a dire ai fumetti fin dicono cagate sono solo finzione e grazie che è tutta finzione ma dovevi dirmelo tu c'è la prima cosa che studia qualunque scuola di cinema fumetti libri a dico sono finzione e grazie serviva la mente illuminata di goyer per dircelo dracula allora dracula con calma abbiamo nemmeno che io dopo l'ultima puntata di vanda vision pretendo una sigla chi ha creato i vampiri e la dracula cari miei perché dovrebbe più dignità di questo dracula e la drake cari miei si allora già sto film a un gigantesco problema nel dare epicità alle cose nel senso che è un continuo parolacce roba gretta the drake ci dovrebbe paura trema di fronte al supremo signore di tutti i vampiri drake che la stessa cagata del film con gesù stato sullo squalo gigante abbiate paura ragazzi c'è il più grande squalo del mondo il mag sembra l'episodio dei griffin in quel caso però qui la stessa cosa però c'è una cosa ma che mi faceva paura c'è da dire una cosa drake è un'ocitazione ai fumetti perché frank drake nell'universo marvel è un discendente di dracula quindi hanno voluto citare quella cosa là però nel contesto del film fa schifo cioè io non non posso chiamare dracula in quel modo drake cioè sembra il rapper boh vabbè esatto poi poi allora questo adesso va bene che io non li ho mai visti di persona per ovvie ragioni temporali ma non credo che gli antichi guerrieri sumeri avessero questo aspetto qui già ve lo dico sto tizio tutto scaviciato a petto ludo col crocifisso così a caso poi ricordiamoci l'ossessione di questo film per il terzo dito della mano hanno diti medi ovunque ma perché il fa che adesso dunque a destra manca ma perché anche lì c'è veramente svuota tutto di epicità poi il caro dracula che dice questo mondo moderno ha dimenticato l'antico onore dei guerrieri vorrei far notare che questo tizio mette in pericolo un bambino l'antico onore dei guerrieri e la sua frase più epica è sei pronto a morire figlio di molto da l'antico onore dei guerrieri di 5 mila anni fa davvero e poi scusatemi è il primo della sua razza il primo o min il primo degli omina nocturna e non è notturno perché resiste alla luce del sole c'è com'è possibile che quello che ha generato gli uomini dotturni non sia un uomo notturno ma vi facciano pensato a sta cosa che potevano giustificare unicamente con è siccome 5 mila anni mi sono evoluto mosso immune no questo a quanto pare sempre è sempre stato così se sempre stato così perché ti discendenti no non è successo perché c'è stato questo mi tragollo brutto spiegato il design da mostro non ha il minimo senso perché quello quello è mefistofele se me lo mettevi come mefistofele di ghost rider allora andava bene a parte la bocca che orribile però poi il resto ci poteva stare ma qualcuno mi deve spiegare il perché il primo dei vampiri si sembri un diavolo va bene poi il fatto poi non combina una mazza sto super vampiro dovrebbe avere 5 mila anni di esperienza nel combattimento blade gli tiene testa come niente si ok alla fine sembra che abbia la meglio però ogni ogni ti prendo ti prendo dovresti essere tipo il super guerriero con la spada che manco samurai jack però vabbè qualche altro dire il finale di questa trilogia non è un finale perché dovrebbe essere il momento in cui tu metti fine ai vampiri ma alla fine sembra che il virus abbia ucciso solo tre vampiri nel palazzo fine poi ok che sono vampiri ma sterminarli con un'arma biologica suona male e non molto da buono che questi sono anti eroi eccetera ma io avrei puntato sul creare un bacino anti vampiri questo periodo sarebbe stato anche però allora fai ho creato l'antidoto per impedirti di essere morso di evitare un vampiro sarebbe stato molto meglio però che queste sono opinioni mie poiché altro dire assi il tizio che poi è coning di agent of shield non mi ricordavo ci fosse che sta spiegando come funziona dracula e c'era io nello scopato in giro c'è doma tu hai mai trombato in vita tua ciccio ti sta spiegando come funziona il super nemico dovresti stare lì con le orecchie giganti però non è un nerd e quindi i nerd sono sfigati comunque c'è a dire una cosa che rai e rey non sarà fatto un sacco di film che fanno cagare in una maniera colossale o ma ti giuro sarà perché io lo amo sarà perché ho fatto la foto con lui ma ti giuro è l'unica cosa che sono riuscito a salvare in questo film ma perché c'è un umorismo del cavolo e ho detto che abbassa c'è lui è un Deadpool wannabe secondo me in questo film perché provano a fare il Deadpool senza la quarta parete ma per il resto vorremmo fare il Deadpool sì è uguale si interpretava già Wade Wilson in Blade Trinity cioè ce l'aveva proprio scritto addosso il personaggio ragazzi sì sì ma poi citando il soprannome del buon Alessio vorrei far notare che il volpino cade giù non dovrebbe essere morto c'è un vampiro che si spiaccica si rigenera no c'è modo più stupido di uccidere un vampiro tra parentesi tutta la trilogia si basa sul fatto che Blade essendo mezzo vampiro è l'unico che ha la forza per combattere corpo a corpo qui se merano con gli umani tranquillamente casca giù come niente i vampiri come cacchio è possibile e Blade dovrebbe essere l'unico in grado di dargli un pugno e buttarli giù veramente questo film è tutto sbagliato non riesco a trovare una cosa che si salvi ma io ho beccato senza volerlo la versione stesa con le scene in più che mamma mia e poi scusatemi a fine film ragazzi dobbiamo parlare del finale alternativo tagliato con quell'altra creatura perché ne parleremo ne parleremo io volevo solamente dire una cosa prima di leggere i commenti vorrei far scegliere al nostro pubblico se partire dalla storia produttiva o sulla dalla sceneggiatura quindi dal dalla solita lista di di cappellate no che ci sono in questo film quindi faccio scegliere a loro leggiamo un qualche commento e poi ci regoliamo come come impostare la diretta non ce la posso fare non ce la posso fare oggi allora diciamo da capo tutto quanto eh l'ora esbo si c'è un filo alternativo ok no io non ce la posso fare neanche internet si rifiuta di aiutare l'ora esbo oggi l'ho visto per la prima volta e ho fatto l'errore di guardare la versione estesa pessima scelta pessima scelta lorenzo scaputo buonasera marco sui ragazzi ciao travata madonna che abominano i film e povero blade ma povero bed che cucicù cucicù mentre salvia un bambino con quella scoppia un po a bocca poi bellissimo no allora io mi soffermo santo dio c'è allora ti salvano ti aiutano ti portano al sicuro ti danno le armi li prendi in giro per come si vessano che sei vestito con una cosetta di belli qui c'è neanche dice sai sono un figo della madonna c'è le armi più fighe ti pensi di essere sto cazzo intanto in tutto il film se non ci fossero stati loro tu non avresti fatto nulla primo anche perché poi lui si fa sempre aiutare moffa il sofà o splendido perché quell'altro è morto a inizio film tanto che poi è una cosa che non ho capito che è tagliato malissimo perché iniziare un film con il cattivo cioè già che scopano il cattivo oltretutto il fatto male c'è a quello gli tagliano la testa fanno vedere che sta per uccidere quei quattro no sono i servi lo stacco e sono lì tutti amicoli che se fosse iniziato il film con l'intervista al dottore e tutto quanto sarebbe iniziato molto bene cioè l'avremmo apprezzato come così non c'è mio poi soprattutto io saprei ma perché drey io non lo chiamo drapola perché drey che ce l'ha con le donne che morde solo donne morde e perché perché questo film siccome per farti capire che ha capito tutto dei vampiri non ti dice che nel vampirismo c'è qualcosa di sessuale ma ci ci voleva gogliere non è una cosa su cui si discute dagli anni 50 letteralmente quel film hammer e anche già comunque con bella lugosi già di qualcosa si intravedevano no gogliere illuminare che ci insegna in maniera molto sottile poi che nei vampiri ci sono richiami sessuali io spero che questo film magari odd ma non l'ha mai vista perché veramente non si maila tanto non si non se lo maila quell'uomo io credo il talismano anti brittriti siete pronti a morire di gioco speriamo di no signore se si può dire su twitch e oltre alla bevanda si dovrebbe parlare del vampi odio il vampi vibratore ma donna che spettacolo che spetta c'è un tripulio di vaffa di va quel paese gestaci vibratori e coca cole con marche improbabili simione sono nato per morire fdp lorenzo scafuto e sul sole non ne sono tanto sicuro sì che poi oltretutto anche lì non si capisce marcos questa volta non sono riuscito neanche a vederlo ecco fermati la ascolta i commenti diretti fatte di risale stasera ma non te lo guardate c'è l'indicazione tra patarra buonasera vede 199 finalmente libero o dai e dario cinematic marvel cialdella ciao ragazzi buonasera a te simione tra culo è il misogino morte ecco questa battuta morte sul collo praticamente solo tipe o è un morto di puntini puntini sì secondo me sì ma c'è l'occhio lungo però ragazzo balaba qui i commenti con 98 è più bella il dracula di alto bacio sì ma è molto più ma molto più sensato la storia di dracula altro che scusami è simile comunque la fatta di cagate reynolds nella vita lorenzo doveva uccidere anche questa versione di se stesso che legge la sceneggiatura di questo film ma qui era ma qui appunto era un personaggio secondario cioè l'alterna verde la proprio punto il ruolo da protagonista che lo doveva lanciare quindi ha più senso che uccida di se stesso di l'alterna verde sebbene questo fin sia peggio simile la cosa del virus che porcata lorenzo tranquillo andrà veramente con i pregi del film pure nel film di merda riesce a fare bella figura no ma è vero io mi ha fatto ammazzata a ridere ma perché forse perché sono un po di parte ma l'unico se questo riuscire a sapere in questo film lorenzo scavuto vorrebbe iniziato la sceneggiaturale lorenzo no ok lorenzo dice che fine la chiede del finale all'alternativo qual è non vuoi saperlo fidati ne parleremo siamo cattivi con calma e lorenzo invece vorrebbe iniziare cappella vada fanno tutto tanto stasera con 98 dalla strada produttiva darius dice ragazzi questo sì che è un film di merda ciao ragazzi chiaro chiaro semplice diretto insomma quindi federico 199 io al dibu di beltrini di l'edizione estesa e pensate che beltrini io pensavo fosse il primo film della saga all'epoca poi vieni sempre di del toro sì che pensavo che trini ti fosse il primo praticamente che poi che poi bella bella chiusura di trilogia praticamente si rialza dalla tavola dell'orbitorio e tipo comincia a mordere la gente forse bello ma figo tutti gli altri sono spariti era dei finali alternativi messi nell'edizione stesa è un casino con i finali di sto film e poi ne parliamo cc cavoni storia improduttiva signore a comunque adesso è già informato io proposto di prepararvi ognuno di voi una lista del meno brutto al più proprioso del film del dei film in ruins da esporre come gran finale post ben anche a dire adesso si sa che chi metterà come più brutto adesso io no adesso non glielo non fa perché metterà ben sicuramente uguale ma non so sicuro ma lo conosco chissà no 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 chissà ma sì tu metterai tutto fatto l'oresbo ma a me solo ma solo a me wesley snap sembra annoiate e scocciato durante il film ora ne parliamo ma è bellissima la scena quando cammina con gli occhiali e la luce fa vedere il riflesso delle lenti che lui sa tipo tipo gli occhi sparati non sa dove guardare guarda fisso proprio falsissima come scena dario sarai ai migliori film marvel sono la teologia di spada di raimi la saga di x-men e e death pool è quella della marvel studios iron man cup thor e altri ma poi faremo anche una rubrica su tutti i film a sé sull mcu faremo una rubrica più che altro poi analizzeremo film per film quindi saremo qua fino alla fine del 2021 voltiale felice vede chi era dracula come può sopravvivere a luce del sole tra poi risponde non hai letto bram stalker ma come si può scrivere sì ma poi fanno un sacco di riferimenti a bram stalker così senza motivo cioè è insistente è veramente insistente questa questa gag cioè boh ma poi scusami che senso ha dirgli dovresti leggerti il libro quando tutto tutto il film si basa su dracula non è come lo immagina la cultura popolare sì infatti ti sei contraddetto da solo cretino sì posto che quella scena orribile di lui che va nel negozio no a tema vampiri io ho capito anche cosa voleva fare goyer in quel momento no voleva far vedere com'è adesso la concezione dei vampiri nel mondo moderno rispetto a quella del passato non in quel modo cioè non mi fai vedere il vibratore a forma di dracula o la dracola o l'altro schifo che sta cioè boh ma io adoro la scena come dracula morda la tipa e la lasci urlare che in teoria dovrebbe arrivarti la polizia tra due secondi ma cretino ma agisci nell'ombra no già mordi tappi una bocca tanto la mordi sì ma oltretutto quella scena non serve a niente nell'economia della trama non serve letteralmente a nulla che lui si fa la passeggiata vai è un altro problema il fatto che dracula sia un diurno non serve un cacchio nella trama ha anche sì perché loro non è che alla fine combattono la luce del sole mentre tutti gli altri vampiri sta morendo e lui è l'unico sport da sopravvivere no 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 combattono sempre di notte l'unico l'unica cosa a cui serve il fatto che sia di urlo è la scena lì col bambino che vorrei ricordare è una citazione limite del plagio della sequenza col diacono frost nel primo film molto più bella sì che c'è pure lo stesso discorso è guarda guarda gli umani guarda quanto fanno schifo dovreste distruggerli perché lì questa l'abbiamo già vista goia l'hai scritta tu cinque anni fa sì posso dire che non ha nemmeno molto senso come scena perché cioè quale dracula e lui prende un bambino umano e lo lancia in aria letteralmente per farlo prendere a blade cioè questo non è una cosa dracula c'è il dracula un dracula decente probabilmente se lo sarebbe divorato il bambino capito ma vabbè ricordiamo quando aveva in mano quello un bambino mi ha fatto condizione nel negozio dei vampiri no quando c'è io dico questo dio ma c'è che dialoghi del cavolo stai scrivendo perché entro no magari te sei fatto un attimo del momento del blocco e biocco dodale quindi tu stella no e lei gli fa una domanda a drake e inizia la casa o sta parlando con te coglione una cosa del genere ma sei calmo innanzitutto ho capito danno il tempo di rispondere no cazzo di allo gli iscrivete donna mia che anche anzi avere terribile lorenzo scafuto vogliamo parlare di triple h è è è perché tricolation ha vinto in questo film a cazzo la re triple h cazzo facevo il tifo per lui anche io insieme a raya reynolds e speravo nella pd invece mi sono accontentato di una power slam e non so ragazzi purtroppo tricolation non gli hanno fatto dare il meglio di sé però secondo me prendeva drake e lo spezzava in due ma sono anche peraltro a cui feriscono in un occhio e nel finale non ha alcuna ferita qual è una cosa che non ho capito minimamente perché uno mi potrebbe dire vabbè magari i vampiri hanno delle delle abilità di regenerative no un po la wolverine però è una mia è un mio head canon cioè non c'è una spiegazione nel primo film si giocava con quel vampiro che break continuava a tagliargli la mano ogni tanto gli e poi gli ricresceva però si vede che la rigenerazione dei vampiri non è una rigenerazione alla wolverine stanno lì qualche ora un po così e poi quali scolo quindi dovresti far vedere in effetti un momento in cui l'occhio sta quantomeno ricrescendo ma scusatemi ma in quella scena è stato colpito da una freccia di jessica biel non era una freccia argentata non doveva prendere fuoco come tutti gli altri sì infatti ma la secondo me l'è successo cosa con la produzione nel senso il regista che avrà detto io aveva detto allora tu in questa scena devi bruciare perché ti ha colpito all'occhio lui a certo punto si è alzato la sedia comincia a spogliarsi per me ne hai fatto che devo fare io no no ma poi devo continuare ok e si è messo a sedia secondo me è andata così andata non mi voglio dire quanto è orribile qui l'effetto dei vampiri che muoiono nel senso che qui sembra proprio che prendano fuoco nei due film precedenti si vedeva che si si surriscaldavano e poi si incenerivano qui invece sembrano letteralmente che prendano fuoco parato combustione muoiono di ghost rider uguale ma poi soprattutto perché i denti di metallo perché c'è i canini di metallo cioè che vuol dire se è un bambino perché l'unico cretino con i canini di metallo non lo so rimango perpresso marcos arriva prossimo mese arriva la sabba che ne vuole comunque farete anche un format per i film più belli sì certo assolutamente sì possiamo già dirlo andrea tanto mancano poche settimane alla fine di ruins faremo una nuova rubrica sui film pre mcu sempre tema marvel e poi ci sarà quella su sull'universo cinematografico marvel che andrà avanti per 23 settimane quindi tanto per farvi un piccolo spoiler i film belli pre mcu daredevil venom certo the punish the war passeremo la live a riguardare gli stessi film ma parlarne bene vabbè l'unico che secondo me potrebbe salvarsi è spirore di vendetta ma soprattutto perché simone ci ha messo quella immagine di nicolas cage con i led in testa quindi per me quella non è più ruins quella è molto quindi a posto elettra lamborghese inizia a scappato onesto lo invitiamo in live per commentare elettra fedrico 139 che pensare che lo sceneggiatore di questo film è david goyer lo stesso della tecnologia del cavolo oscuro di nolan che secondo me non gli ha scena di lui i film di nolan cioè io qui do ragione a victor probabilmente il contributo alla sceneggiatura di goyer ai tre film di nolan è stato dire ah hai sbagliato scrivere di una virgola a grazie david ti accreditiamo perché secondo me ma secondo me poi si è imparato a scrivere goyer non lo so marcos però nolan ha scritto i suoi batman insieme al fratello goyer non era solo qui poi alessio ci te lo ucciderai con le piccole perle simione ma i cani è soprattutto qualcosa con il mento che si smonta come se fosse un lego è qualcosa di dovrebbe essere una citazione ai vampiri mutati di blade 2 che facevano proprio così da prima solo che vedere il volpino comunque comunque ho preferito i vampiri di dylan dog del film di dylan dog che facevano anche la schifo che questo è l'effetto del vampirismo in questo film fa veramente cagare in una maniera colossale ragazzi non lo so simione film belli premsi io il vendicatore assolutamente no mai sia lorenzo scapputo un'opera piacente di goyer da vinci sdimons ma non l'ho visto simone cage e con i led credo che rimarrà nei anni di comic se ne fanno guarda ma io ora metteremo la clip anche sulla pagina facebook e basta dobbiamo il mondo deve vedere quello che noi abbiamo visto in prima insomma detto ciò alessio stupiscici meravigliaci delle delucidazioni intanto faccio la storia ricerca sulla soundtrack magari c'è qualcosa di figo allora ragazzi voi non avete idea della storia produttiva di questo film è letteralmente un casino cioè in confronto fantastic four di josh trank è un dilettante ma ve lo dico senza senza problemi e vi aprirò un mondo stasera perché molti pensano blade trinity fa schifo per colpa di goyer goyer non è non è bravo a scrivere goyer goyer non sa dirigere goyer non sa fare quello non sa fare quell'altro non è solo questo il problema il vero villain di blade trinity è il suo protagonista sì è proprio lui perché vi spiego un po come sono andate come è andata la vicenda allora vabbè lo annunciano subito dopo anzi no poco prima dell'uscita di blade 2 però comunque a ridosso no della release sapevano già che avrebbero fatto il terzo film questa ricordiamoci la new line e stringe un accordo con goyer appunto per scrivere e produrre solamente il film perché sarebbe stato oliver qua il cognome non riesco a pronunciarlo perché tedesco però questo oliver irshb era in trattative per dirigerlo però poi preferì occuparsi di un film su mi sentite meglio adesso vai guarda un po aspetta adesso ok e dove avete verso il cognome del regista si ripetisce il nome di rischio ok dicevo vabbè era ottio oliver irshbigel non so nemmeno se la pronuncia esatto ma non penso irshbigel esatto irshbigel era in trattative per dirigerlo però preferì un progetto su hitler ed effettivamente forse è stata la scelta migliore rispetto a blade trinity però parliamo un attimo della storia aspetta che ci sono quei colpi di scena che tu non ti immagini wesley snipes il mitico non era molto felice della sceneggiatura tant'è che non fu nemmeno d'accordo con la scelta iniziale del regista sta che non era questo oliver che vi ho detto adesso ma addirittura stefan norrington cioè regista del primo film perché siccome non sapevano chi far tornare perché del tour non c'era perché sono sbaglio scelse elboy non mi ricordo se no forse il secondo doveva essere e si allora non sapevano il primo hai ragione 2004 sì 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 allora chiamarono anzi contattarono norrington del regista del primo film ma snipes non era d'accordo e allora cosa fece la new line vabbè a sto punto lo diamo a goyer dato che le ha scritti pure tutte e tre i film ad un certo punto io ho visto anche i contenuti speciali di blade trinity e c'è proprio l'intervista di lui che che dice a un certo punto era a metà della sceneggiatura la new line mi ha chiesto vuoi dirigerlo e ho detto sì ok però non era qual era il soggetto iniziale di questo film sarebbe dovuto essere in pratica un film alla mad max ok in cui blade avrebbe combattuto per l'umanità in un mondo post apocalittico governato dai vampiri che non è male come soggetto eh cioè sarebbe stato interessante io almeno leggendolo un minimo di interesse di hype l'ho provato un pochettino no di curiosità però non è stato così perché non è stato questo il soggetto perché la new line disse no è troppo dark è troppo troppo serioso troppo cupo è meglio la storia blade contro dracula e qua snipes fece un po di non mi piace molto ma quasi solamente quasi solamente gli inizi della lotta perché perché snipes non fu affatto collaborativo durante le riprese ora vi spiego un po che cosa è successo allora non solo si rifiutava di girare le scene ma costrinse ad un certo punto per motivi che poi vi spiegherò per bene goyer a usare delle controfigure per le scene con blade quindi questa è una curiosità molte delle scene in cui noi vediamo blade non è wesley snipes ma sono le sue controfigure con il volto di wesley snipes attaccato in cgi perché un po a volte in cgi a volte con i close up perché giustamente prima l'avevano ripresa no di fronte e avevano attaccato sopra come dire accostato no la sua faccia su quella della controfigura però non ci sono al 100 per cento delle scene in cui è lui nel film mi stai dicendo mi stai dicendo che questo è il primo film fatto con la tecnica del deep fake è più o meno sì in parte sì poi comunque ripeto le inquadrature dei close up li hanno fatti quindi in alcune inquadrature è lui però il corpo no il corpo è della controfigura e c'è un motivo anche a questo però ci arriviamo parliamo in generale di quello che è successo allora patton oswald che io adoro come come attore comico ha raccontato nel dettaglio cosa è successo perché wesley snipes secondo oswald passava la maggior parte del tempo nella sua roulotte nel suo quello che gli americani chiamano trailer a fumare marijuana per tutto il tempo e ci sono stati alcuni episodi un po sgradevoli per esempio snipes accusò goyer di razzismo questo si può possiamo dire perché tanto non è è una cosa eccessivamente grave ancora twitch ogni tanto si si agita però c'è proprio la descrizione dell'evento vero e proprio che indossava una maglia con su scritto garbage cioè spazzatura e wesley snipes si incazzò con goyer pensando che fosse un insulto dicendo anche no ai primi due film hanno lavorato molti più membri del crew della crew della cast neri mentre qua no e quindi goyer per questo motivo è razzista secondo snipes va beh questo non è molto non è molto sensato ma come avrete capito non ha totalmente senso questa cosa non ha per niente senso cioè la maglia con su scritto spazzatura ed è colpa del regista va beh e poi non è nemmeno capito se fosse proprio la maglia di questo attore membro della crew o se fosse non lo so una scelta di goyer questo non si è capito però non ha comunque senso ragazzi cioè veramente prendersela e accusare di razzismo per una cosa del genere è totalmente insensato ma vabbè vabbè poi snipes si rifiutava di interagire con gli altri membri del cast ed era particolarmente incazzato con ryan reynolds tant'è che questo lo spero di poterlo dire senza che twitch si agiti di nuovo lo chiamava spesso cracker o come cracker come i crackers no si scrive così il il termine che magari voi non avete mai sentito non avete mai sentito questo per descrivere i bianchi del sud ok quelli che vivono in particolar modo in georgia in florida in florida questo perché reynolds viveva in florida cioè gli ha praticamente dato del redneck sì e snipe riferimento a più o meno sì però che è un po diverso è un po diverso però comunque il cracker quel cracker dalla mia vista adesso adesso sì adesso torno è aspetta mi sentite ok mi spiace ragazzi no ma è l'ultima live così perché poi da giovedì c'è la fibra quindi cambierà tutto cambierà tutto e poi nel 2005 snipe fece causa alla new line volevamo ti vi vedete con tutti uno non sono stato pagato quanto previsto inizialmente due non sono stato coinvolto nella per nell'approvazione delle decisioni legate al casting pur essendo produttore esecutivo il discorso che abbiamo fatto prima e lo screen time di blade è stato ridotto in favore ora è veramente un casino io poi ho trovato altre dichiarazioni di oswald ce l'ho proprio qua un secondo allora aspetta intanto intanto simeone ha detto una cosa molto intelligente ma veramente voi non avete idea trovo mi sentite sì ora si arriva ti arriva la fibra apposta per recensire venom è fatta può essere fatto sì infatti sì 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 comunque dicevo allora ci credo che non l'hanno pagato non ha girato mezza scena in effetti ma ma in realtà l'hanno pagato ma sì ma lo hanno pagato è per lui qualcosina l'ha fatta l'ha fatta contro voi ecco perché qualcuno prima diceva sembra sembra svoiato in questo film perché non lo voleva fare cioè era proprio incazzato con tutti tra te che se leggete qualche intervista vi renderete conto che era proprio percepito come un nemico snipes sul set ce l'avevano tutti contro tutti reynolds jessica bill goyer patton oswald tutti membri del cast anche natasha leon poveretta che aveva anche i suoi problemi no con di droga rischio addirittura di avere un un esaurimento nervoso sul set cioè e c'è snipes che che rompe nel frattempo però qua ci sono dei degli episodi che vi vorrei raccontare e poi leggiamo i commenti allora patton oswald raccontato questo aneddoto sulla lavorazione in pratica una sera andarono erano stavano girando a vancouver no andarono in uno strip club a bere e siccome siccome c'era c'era snipes che che disse a goyer il giorno prima sei deleterio per questo film voglio che abbandoni il progetto quindi ce l'aveva proprio con lui tant'è che secondo oswald lo strano cercò di strangolarlo snipes cercò di strangolare david goyer questo è vero poi lui ha presumibilmente vero mentito magari dopo ve le leggo per le dichiarazioni la però con quello che è successo io ho un minimo di sono abbastanza convinto che sia vero almeno un minimo mi sentite ancora spero di sì perché dicono che sì ma ogni tanto l'agirea mi senti ok ma sì sì io vi sento perfettamente sì sì ma ogni tanto l'aggavi quindi ti startavi un pezzettino infatti io continuo alessio l'aggasi il più bello sei rimasto a snipes che stava per menare sì no allora stava per strangolare e stava strangolando in realtà quasi goyer e cosa decisi di fare di goyer il regista di assumere dei motociclisti trovati vicino a questo strip club di vancouver e disse loro se vi presentate domani sul set vi pago da bere però dovete far finita di essere le mie guardie del corpo per intimidire snipes che il giorno dopo si spaventò realmente e si rinchiuse nella roulotte a oltretutto c'è un'altra cosa incredibile su questa lavorazione travagliatissima sapete come comunicava snipes con i membri del crew del anche con gli altri membri del cast con dei post it perché non no no con dei post it con dei bigliettini veramente e si firmava blade questa è una cosa assurda perché se voi vedete le interviste presente nei contenuti speciali le trovate anche online snipes è sempre blade si era immedesimato troppo troppo nel personaggio era blade non era più su questi snipes tant'è che si firmava pure così nei bigliettini è veramente assurda tutta questa questa storia cioè completamente folle completamente ci stiamo giocando alessio grande bello fighissimo dai alessio resisti ancora qualche giorno e presto anche tu la fibra la cosa divertente io la fibra ma comunque va schifo la lina ma comunque ragazzi questo film è stato questo film è talmente tra l'aiuto della mia sicuramente e che la connessione pure le connessioni si rifiudono trovata meno male che ci sia dove la connessione funziona l'unica cosa che ti dicono dice fede ti si sente un po basso se puoi alzare il microfono e il problema è che con le cuffie se alzo troppo mi rimbombono le orecchie quindi vabbè è un commento giocato sto provando una prova così è uguale è uguale è più o meno comunque dice simeone questi retroscena svelati mi fanno pensare che alla fine è già tanto se l'abbia l'ultima da stascia febbra di film sì sì ma infatti patto no svolto detto è un miracolo che esista questo film cioè è veramente un miracolo si no concordo concordo al cento per cento però la situazione è stata questa è stato lui che ha dato proprio fastidio cioè boh ha creato questi problemi anche inutili poi bisogna vedere quanto c'è di vero anche in quello che è successo lui pensava che coger cosa Andrea no ma la cosa divertente è che tu devi mettere la fibra io ho la fibra e questo è il discorso ma ho una connessione a far schifo lo stesso benissimo quindi oggi rischiamo di far stare Travatar da suolo praticamente eh ma ve l'ho detto ragazzi siete voi che non avete il talismano e quindi portafortuna guarda io penso che per la live di Venom mi vado a rullare nell'isis e trasmetto da qualche grotta a meno una connessione a otto Gia però sicuramente quindi arrivare a questo punto sapete fare ovunque è terribile è terribile come connessione tutto quanto abbiamo un sacco di problemi ci scusiamo però come seriamente dici scherzo ma ci scusiamo per i problemi che siamo riscontrando ma team ci vuole bene beh Andrea guarda il lato positivo abbiamo comunque meno problemi di Blade Trinity quello è vero perché noi i nostri problemi li abbiamo giusto questa sera Blade Trinity ce l'ha siamo tantissimi e tutto quanto adesso sta cercando di entrare in contatto con noi in quei momenti di lag scatto e tutto quanto no si è piantato si è piantata lì in mare eh se io ci sei vai a scatti no ragazzi è meraviglioso mentre cerchiamo di riavere con noi Alessio leggiamo qualche commento se no ci ci rivediamo e tutto quanto allora che è successo? Ah è entrato e uscito allora buonasera lei è piacere rivederti come stai? Buonasera a tutti di che state parlando? allora parlavamo di quanto è meraviglioso Blade Trinity un film molto bello che racconta praticamente questo conte questo vampiro no? Il vampiro ultramillenario che lui praticamente decide di apparire. Ma intendi Drake giusto? Il signor dei vampiri? Il diurno? Il diurno sì di uno Dracula un par di palle come direbbe qualcuno non so se si vedete qui ma su certità io l'ho detto anche prima della live io su determinati argomenti io non transito Dracula per me è stato un mito uno dei libri più belli che abbia mai letto di Bram Stoker e vedere una cosa del genere veramente mi fa mi viene voglia veramente di prendermi a testare comunque detto ciò leggiamo qualche commento ok devo recuperarli perché poi stavo guardando te e tutto se tutto salutiamo Clau 1997 qui c'è una piccola una frase che potrebbe dar frasile al nostro Pac-Man in realtà in segreto dice a Lorenzo ad Alessio piace molto Venom lo scopriremo alla fine di questo percorso il personaggio sì e non è un segreto ma il film simione ah sì ragazzi una domanda come mai nel Blu-ray ogni tot parlano in originale realmente sono tutte scene tagliate questa è una cosa che ho riscontrato anch'io perché io ho rivisto questo film in un modo illegale che non mi sto neanche a dire come ho fatto praticamente avevo frasi in inglese e frasi in italiano e pensavo che fosse un problema del doppiaggio inizialmente no no anche a noi ok no sono le scene tagliate perché al giorno d'oggi si tende a ridoppiarle però magari ai tempi no e quindi tu trovavi montato il film con per citarne uno molto più bello se tu guardi la versione stesa dell'Alien di James Cameron ogni tanto switcha perché la versione stesa ha scene non doppiate ah ok quello è un gran film ma questo invece quindi tutto ciò che sentire in inglese è tutte scene tagliate che fanno anche abbastanza spiro sì claus su wikipedia dicono che si trocava sul set perché lo si chiama che aveva preso pochi soldi io comunque quella cosa del che andava allo strip club a vancouver vorrei partecipare anche ogni tanto cioè perché non andiamo a fare registi anche noi se questa potete fare il motociclista che vada ad aiutare goyer sul set comunque comunque una banda di motociclisti vicino al strip club famosa fa poco film agli 80 americana proprio è un cliché è un cliché dai su non esageriamo lorenzo dice venom sta ad alessio come scarfest e sta a simiore attenzione qua si continuano gli attacchi a venom qui alessio e venom ragazzi vabbè marco su un pazzo furioso con 98k dice da quello che so snaps è sempre stata una testa calda sì ma qua è proprio fuori di testa non è una testa calda cioè io vi invito a guardare le interviste è completamente pazzo ad un certo punto io ho visto nei contenuti speciali no? lui che fa se potessi mordere qualcuno ogni tanto lo farei bene ogni riferimento a goyer è puramente casuale secondo me nel camerino aveva una stampa di goyer che lanciava le freccette a modo di bersaglio per centrarlo beh questo credo che sia la cosa più sana che abbia a fare simiore dice secondo me Drake sta mordicchiando i vostri figli della prima possibile siete pronti ad andare offline figli di polizia dell'internet Clau Alessio completamente spento dopo i paragoni con venom sì ti si è spenta la luce che in te proprio capisci io continuo a non capire non continuo a non capire perché questi attacchi contro un film così perfetto fatto bene uguale alla controparte cartacea viene dall'universo marva di spider c'è tutto ciò che riguarda venom e secondo me è meglio di tutti e 23 film dell'epsy io non capisco che tutto quanto ascolta io sto a venom come travatars ai film di transformers di michael bay quindi lui può capire di cosa parlo parole dure perché agli e lorenzo dice venom a batten game comunque è una cosa meravigliosa perché noi riusciamo a portare un argomento ma stiamo parlando di tutt'altro perché non ce ne frega niente di quell'argomento no no prego io voglio tornare a parlare delle schifezze di storie perché veramente ce n'è così tanto è così divertente ho una lista ho una lista lunghissima vai continua con la tua lista torniamo a play design ragazzi sì allora allora direi che è il momento di parlare un po' della sceneggiatura che dite allora io vi lancio qualche spunto per me un secondo vai ti diste una sceneggiatura? dov'è che non l'ho vista? no hai ragione hai ragione sì errore mio scusami peraltro c'è un questa è una chicca nei contenuti speciali c'è un una specie di intervista no? di David Goyer a David Goyer cioè c'è intervista a se stesso giuro è sdoppiato giuro ma poi cioè è autocelebrativo in una maniera assurda perché si percepiva proprio da parte loro no? l'impegno cioè loro erano convinti che fosse una cosa quanto meno interessante ai tempi poi vabbè oddio con tutti i problemi che ha avuto magari avranno pensato non sarà al pari dei primi due però sembravano convinti almeno nelle interviste no? da come ne parlavano e c'è lui che commentava è con l'intervista di Goyer a con l'intervista di Goyer Goyer che cosa hai pensato di questo film? ma sinceramente penso che sia un ottimo film uguale e tu sei uguale Andrea tu stai scherzando ma è così è così ti giuro è così ma se la trovo poi me la mando e una cosa che però devo ammettere mi ha colpito molto è che lui a un certo punto nell'intervista commenta i rumor su Blade 4 e addirittura lo spin-off sui Night Stalkers e mi ha stupito questa cosa perché già ai tempi era il 2004 ma c'erano i rumor no? e lui commenta queste cose qua dicendo eh sono discussioni no? quindi mi ha mi ha fatto capire il ruolo no? di queste cose qua delle speculazioni delle indiscrezioni online già ai tempi poi adesso ormai siamo bombardati di queste cose ottimo paragone di fede uguale all'autointervista di Stannis in Boris si praticamente ha fatto lo stesso sistema ha fatto perché con il suo drogarsi e continuare a minacciare me e tutti gli altri membri del gastro Uvese Snipes ha devastato questo film che in parte è vero ma comunque vai continua con i miei appunti di fede vado? siamo curiosi va bene va bene allora allora il piano parliamo del piano no? dei vampiri almeno da quello che ho capito io poi magari mi sono perso qualcosa e utilizzare aspetta aspetta e utilizzare il sangue di Dracula no? per rendere tutti quanti dei diurni giusto? così sembra così sembra ma viene mai detto di preciso perché io non sì no l'obiettivo è quello l'obiettivo è quello vogliono fare quello però non fanno niente per concretizzare questa cosa cioè a parte stare in un edificio a lamentarsi in continuazione a dire dov'è Blade? dobbiamo uccidere Blade? dobbiamo uccidere lui? non fanno niente ma poi soprattutto in che modo usi Drake per rendere gli altri vampiri diurni? ma poi soprattutto tu risvegli questo Drake da nulla da sotto la sabbia quindi manco da una bala perché dovete uccidere Blade e lo sconto dura un minuto e mezzo forse nel finale se si sono ricordati che oltretutto è una cringata totale il combattimento c'è un assenso sì poi parliamo di questa scena che ci può anche stare più o meno esteticamente però vabbè la scena dell'inseguimento quella all'inizio che vabbè già il fatto che ci siano gli abbaglianti che uccidono i vampiri si lascia commentare da sola così ma poi quello che succede in quella scena è fondamentale o meglio dovrebbe essere fondamentale ma di fatto non lo è perché Blade uno uccide un umano era un familiare però era un umano che si era finto vampiro e questa cosa qua parte nel primo atto che poi porta al suo arresto non serve a niente non torna più questo spunto di trama nel resto del film non se ne parla più è come se non fosse mai successo e se fosse stato approfondito mi sarebbe anche piaciuto perché adesso tu sei un nemico pubblico cioè tu hai salvato l'umanità per anni dai vampiri però adesso ti hanno incastrato e devi provare l'umanità che sei sempre dalla loro parte però questa cosa qua non l'hanno fatta perché la scendiatura è pessima è pessima ma il problema ulteriore è questo ma è possibile che Blade non si sia reso conto che quello era un umano cioè questo da quanti anni caccia vampiri e non è come è possibile che non sia riuscito a riconoscere un umano che era un umano con i denti finti no ma il problema lo colpisce e gli dice ti ho colpito come mai non sei cenere come mai vedo più o due se non sei cenere sarà un umano no glielo devi chiedere ma è ovvio ma vorrei ricordare che nel primo film è lui a spiegare alla dottoressa questo è un discepolo un aspirante vampiro cioè quindi lui sa dei familiari e tutto e poi dice ma sei un umano che si finge un po' più cazzo si è dimenticato di un paio di film fa mi sa vabbè ma parla soprattutto una cosa divertente è che viene girato questo video e sto video pare che non lo vede nessuno in realtà cioè lo vede soltanto l'FBI per sbaglio e tutto quanto ma non è che dice sai c'è l'opinione pubblica un commento di poco che penserà l'Ager no non frega nessuno cioè come se non è mai successo quindi anche lì peccato però peccato cioè come anche Wisa che gli dice oh hai ucciso un umano ma devi stare attento e se uccidi gli umani ti beccano ma lo stesso Bray dice che ne ha uccisi un migliaio quindi non è che è la prima volta che spara un umano familiare e sembra che se uccidi un umano ti beccano ne ha uccisi mille non l'ha mai beccato quindi che cacca adesso improvvisamente se uccidi un umano ti beccano tutti sì peraltro Whistler altro elemento della mia lista muore ancora e soprattutto la sua morte non ha alcun impatto su Blade cioè muore e fine io qui apro una parentesi per quanto mi piaccia Blade 2 riportare in vita Whistler è stata una cagata perché quello è proprio il mentore che muore basta è morto cioè se poi lo riporti o tu giochi tutto il film su Blade che dice cavolo l'avevo ritrovato ma l'ho perso di nuovo oppure proprio non devono riportarla in vita già dal primo film cioè è come se avessero risuscitato Silente in Harry Potter no Silente è morto deve star morto perché il saggio mentore che se n'è andato ha lasciato spazio alle nuove generazioni no ma poi soprattutto soprattutto poi c'è la scena dell'arresto in cui fa quell'accenno di pianto sofferenza poi dice sai c'è un dialogo con Jessica B dice come stai no perché soffro non è fregata a nessuno cioè sembra tipo Robin poi la sua morte nel primo film era così bella lui lì distrutto Blade che si tutto maciullato Blade che si gira si vede lui che si spara cioè non si vede che si spara ma si vede la mano che cade giù e lì che dici oh toccante adesso invece esplode tutto tra l'altro come muore alzando il dito meglio ma basta basta ma perché ma perché tutti devono fare il dito medio almeno una volta non ha senso allora durante il casting quando fanno i casting con il copione e tutto quanto loro non hanno avuto copione gli ha detto la pista fa un po' di come alzzi il dito medio ah no beh bravo ho preso sei tu sei l'attore sì peraltro il film inizia con un dito medio quindi si infatti parti benissimo vabbè poi ah io farei commentare a traurata queste cose qua dato che lui essendo un esperto colè maiuscola ma in realtà anche le altre lettere maiuscole vorrei sapere cosa ne pensa di questo di questi poteri che ha drake perché lui oltre ad essere un vampiro diurno no è anche in grado di farsi allungare le dita e così senza motivo quando rapisce la piccola zoe di cui non frega niente nessuno e soprattutto è un muta forma è uno scral allora c'è da dire questo con i vampiri parlare di abilità è cioè ognuno si inventa l'abilità che vuole quindi inventarti che questo ha un tale controllo sulle proprie cellule che può rimodellarle può diventare altre persone va anche bene quello che mi dovete spiegare è perché appunto può assumere sta forma mostruosa e soprattutto che vantaggi gli porta perché a parte avere la linguettina all'Alien che è una chiara citazione da schifo da Alien perché non è che diventa più forte cioè non è che tipo vedi Blade che gli tiene testa a un certo punto si trasforma la forza decuplica e Blade dice ok io lo sono messo male no no è forte uguale continua a fare la minchia di voi a me ricordava più Predator in quelle scene allora aveva le Fauci era Predator ma le lingue che sembrava la lingua di Alien è un ibrido è vero sì sì è vero però comunque se ci pensi il potere del come dire del mutaforma dell'aspetto degli altri non lo usa nel finale cioè perché non cambia aspetto nel combattimento finale quando potrebbe tranquillamente che ne so assumere le sembianze di Ryan Reynolds o di sì no ma di chiunque potrebbe fregare Blade in qualsiasi momento purtroppo quello è uno lui diventa Whistler quando penetra nella base sì e non fregherebbe niente a nessuno però non lo fa effettivamente davanti a Blade che dici ok Blade sa che quello non è Whistler però sta avendo nell'aspetto che può solo esitare quel secondo che serve a Dracula per dargli un bel pugno sì sì ma poteva anche assumere le sembianze di uno che stava là cioè se avessi assunto le sembianze di Hannibal no poteva dire sono Hannibal sono quello vero e poi lo colpisce cioè è vero che adesso stiamo un po' fantasticando però è uno dei limiti no di questo potere quando tu puoi far trasformare chiunque in un altro devi scriverlo bene altrimenti io l'avrei proprio evitato cioè non ci non trovo proprio l'utilità ma anche quando penetra nella base serve solo nel finale proprio della versione cinematografica in cui per qualche motivo lui decide di trasformarsi nel cadavere di Blade per far sì che la polizia lo creda morto cosa che comunque non serve a niente perché lui torna a Dracula mentre lo stanno sezionando quindi sanno che quello non è Blade e che quindi Blade è vivo ma siete difficili ah peraltro finale alternativo che non ha senso perché per quale motivo lui dovrebbe far scappare Blade quello è il finale originale il finale alternativo che c'è nella versione sì no scusami mi sono confuso io e che lui diventa Blade poi si sveglia nell'ubitorio e comincia a massacrare tutti sì oddio oddio non lo so se massacra tutti quanti perché se fa come ha fatto con i suoi scagnazzi è capace che li assume non è detto gli massacra fanno capire tranne un'infermiera che non si sa cosa le farà no ma io la cosa che non capisco nel senso cioè ti trasformi in Whistler non ti trasformi davanti a Ryan Reynolds ma perché ma poi soprattutto se ti trasformavi davanti a Blade e Whistler sarebbe stato divertente perché se è stata una battuta guarda che è deficiente guarda che tanto visto che stiamo dicendo parolaccia a Gogo guarda che è morto non mi prendi in giro cioè avrebbe avuto con un senso una battuta ma poi soprattutto ma tu come te conosci Whistler praticamente cioè non l'hai mai mai visto tu fino all'altro giorno non mi hai visto tu era come un verme dormivi perché proprio quel personaggio si andrà a prendere di tanti che poi non serve neanche a niente perché ti si è introdotto ti si è fatto vedere davanti a Hannibal che quello stava pure a dormire e poi ha ammazzato tutti quanti nel buio e ha ammazzato che poi permettetemi una cosa la scena del buio con quella che già lei non ci vede perché cioè qual è il senso soprattutto lui è Whistler ma lei è cieca quindi che gli frega che sei Whistler non ti vede non vede che sei Whistler ma oltretutto che vuol dire la fai vuole al buio che vuol dire che non ha se stiamo attenti come te ne dicevi che è stato i cici bambi ma che vuol dire tanto lei non ci vede non è che lasciano la fai al buio prendi le sebbianze di cui si è introdotto non serve a nulla diciamo che la morte la morte di io non mi ricordo neanche come si chiamano quel personaggio per farvi capire l'impatto dico una tascia a Lyon che è l'attrice la scena della morte non è neanche male con lei che è crocifissa ci può anche stare però è tutto il resto cioè a noi cosa dovrebbe fregare del fatto che questi sono morti è morta lei è morto Patton Oswald è morto quell'altro che non mi ricordo come si chiama peraltro non mi ricordo non mi ricordo nemmeno il nome di Patton Oswald del personaggio perché sono tutti fortemente monodimensionali non frega niente a nessuno di questi cioè non sono una squadra però è Patton Oswald quindi ci dispiace a prescindere sì quello sì quella scena la fai vedere perché comunque fa sempre parte del fatto che lei sta camminando in mezzo a tanti cadavidi che poi gli sto santo come le ha lisciati come se niente fosse è giusto pure farli vedere però sta là oltretutto c'è un personaggio che si chiama Debs che era il mio vecchio soprannome mi sono sentito un po' chiamato in cavo di tutto questo e beh eri in Blade Triniti Andrea sei contento? Andrea sto ovunque sto ovunque avevo 14 anni quando uscì quel film quindi eh hai visto allora io direi leggiamo quel commento e poi andiamo avanti perché la lista è ancora lunga allora Simeone Alessio Stalfin oh ma ce l'hanno con te stasera eh Alessio Stalfin di Venom come i nostri fumetti del fichissimo il fichissimo come siamo andati a produrre quel titolo il fichissimo Ulca vabbè fede e la battuta della giococca con la sceneggiatura l'irreprendibile sceneggiatura non sapevo che si stesse ma infatti non c'è una sceneggione in questo film Cringe Goyer vabbè per l'intervista a se stesso e tutto quanto ma comunque fa ridere questa cosa eh probabilmente non voleva intervistare nessuno proprio quello scandalo di film e quindi si è intervistata solo un po' come un c'è è probabile in Tatum che fa il film e vabbè l'intervista di Borja l'ho letto eh Simeone no la devo vederli intervista sdoppiata con non ho toccato quindi mi sta dicendo che Snyder è un Goyer 2.0 eh in parte sì cioè oddio forse non arriva a livelli di Snyder però se vedete le interviste era veramente autocelebrativo tantissimo tantissimo e anche un po' permaloso da da come ne parla guardate non sono un grande fan di Snyder ma rispetto a Goyer Snyder tutta la vita mi spiace dire cioè madonna madonna io non vedo l'ora di vedere il film di Noviny Snyder con le 77.500 interviste post film che si farà da solo tranquillamente e non le ricorderemo tutte le ricordiamo Lorenzo la scena dell'intervatorio con i tre protagonisti mi ha ricordato molto quella di Winter Soldier sì ma a livello più ma anzi bravo l'hai scritto tu Blade Triniti e superiore a Winter Soldier pocissimo assolutamente Winter Soldier fede 199 ragazzi sono una domanda le altre live di Ruins purtroppo non l'ho potuto vedere tutte a causa di impegni per lo studio per caso saranno ricaricate sul vostro canale YouTube perché ho visto nel canale ci sono e altre no in generale anche le altre live che fai stanno ricaricate nel canale YouTube perché sempre purtroppo con impegno universitario e personale spesso non faccio tempo a recuperarle allora sì tutto quello faremo noi saranno su YouTube tranquillamente per una caricata con le vecchie credo di no non so se le caricheremo un meno bisogna bisogna un attimo vedere insomma anzi fede 28 35 suggerisce 7 addoni le puoi di vedere qui perfetto questa mi mancava Simeone il finale terrificante è veramente osceno tutti i finali sono osceni sia quello cinematografico che quelli alternativi ma lui forse parlava più che del finale cioè non tanto come scena finale ma proprio come combattimento finale forse credo sì sì infatti no non cambia molto sì no tutti i commenti vai ok allora vado avanti che è successo hai distrutto il microfono sì allora l'insapura hai fatto come Wesley Snipes con Goyer allora la scena con Abigail che dopo la doccia che si allena mi ha ricordato tantissimo quella di Electra in Daredevil non so se sono l'unico e non è l'unico parallelismo con Daredevil che peraltro è uscito un anno prima ma anche quella in cui si mettono i vestiti si preparano in stile Power Rangers è identica ma proprio identica a quella di Daredevil perché l'abbiamo parlato anche con Giacomo era proprio tipico di quegli anni fare queste scene così di loro che si preparano e fanno tutte queste cose io le odio io odio quel tipo di estetica odio quel questo dark finto dei primi anni 2000 non mi piace per niente ma proprio per niente sempre odiato a quella scena mancava soltanto la cosa fondamentale di tutto bring me to life è vero è vero vabbè si può fare un montaggio però possiamo migliorarlo possiamo migliorarlo che però se non sbaglio c'era una canzone sottofondo in questo film solo che guarda per migliorare quel film basterebbe anche soltanto mettere Barbie Girl e degli Aqua tranquillamente mentre come si preparano ce ne sarebbe figo si si è vero che peraltro la corona sonora originale se non sbaglio è di Ramin Javadi che è il compositore di Iron Man di Pacific Rim di Westworld quindi è un nome potente se non sbaglio comprorà anche la corona sonora di Eternals quindi torna anche in casa MCU e la cosa divertente che ha fatto anche oltretutto Dracula Untold cioè l'altro film brutto di Dracula cioè questo comunque ne esce azzecca di Dracula si ha fatto Iron Man Sex List vabbè Blade Trinity giustamente Rex Rex è un cucciolo a palazzo devo vederlo si ha fatto un sacco di un sacco di roba ha fatto si si Rex è un cucciolo a palazzo che è meglio di Blade Trinity peraltro sicuramente poi ah vediamo un'altra scena che visivamente non è male bisogna ammetterlo però uno si chiede e quindi allora la scena della banca del sangue nella famosissima intervista a se stesso Goyer spiega che quella scena era stata pensata addirittura per il primo Blade però non riuscirono a inserirla e quindi disse no vabbè mi impongo la devo mostrare per forza io qui apro una parentesi quella scena io l'ho vista perché nelle scene tagliate del DVD si perché ricordiamoci che nel primo film il piano di Frost è diventare la si chiama la magra tipo insomma questo super dio vampiro che chiunque tocca diventa vampiro e c'è appunto la dottoressa del primo film che gli dice ma scusami se diventate tutti i vampiri poi voi cosa minchia mangiate e lui le faceva vedere ah si ti faccio vedere le faceva vedere appunto quella cosa lì quindi confermo che quella scena esiste sì sì infatti però è molto diversa chiaramente poi in Trinity diciamo che non è male però io riguardando il film ho pensato una cosa allora quello che dici tu è vero però posso dire che mi sembra una soluzione per quanto geniale un po' stupida cioè se tu puoi rapire senza tetto li tieni in stato di coma e produci in quantità industriale il loro sangue non rendi meno cattivi i vampiri di quello che dovrebbero essere cioè cattivi poi comunque questi mordono e si cibano del sangue degli esseri umani e tu potresti dire giustamente come hai detto infatti quando finiranno gli esseri umani loro non avranno più niente no? però mi sembra un modo proprio per rendere meno cattivi creature primordiali e istintive come i vampiri cioè mi sembra una soluzione troppo scientifica troppo geniale per creature con una sete irrefrenabile di sangue si diciamo che è una cosa simila underworld dove lì però c'è proprio sangue sintetico clonato qui viene proprio fatto vedere che comunque stanno sfruttando delle persone quindi comunque tu stai per citare un famoso personaggio li stanno allevando come bestie da macello quello sicuramente quello sicuramente però vuol dire che loro tecnicamente potrebbero anche non cacciare altre persone perché hanno la riserva diciamo se diciamo che con questa cosa qui fanno comunque del male ma fanno un male molto più contenuto ci scegliamo il minore dei mali prendiamo qualche persona e la svuotiamo però almeno piuttosto che ucciderne dieci cioè uccidiamo un decimo di quello che uccideremo di solito questo è vero ma appunto aveva più senso nel Blade nel primo perché appunto l'idea era di sfruttare questa cosa una volta che ci sarebbero stati troppi vampiri qui non è neanche chiaro quanto vogliono quanti sono i vampiri cioè quanto quanto punta a crescere la popolazione vampiresca nel primo era più contestualizzata perché era pensata appunto per un mondo in cui i vampiri avrebbero superato i predatori sarebbero stati più delle prede c'era anche in Buffy nella realtà alternativa in cui Buffy non è mai arrivato a Sunny il gran maestro ha vinto anche lì lui sta puntando a una cosa di questo tipo con proprio il maestro che dice ormai siamo siamo una razza superiore ma ci stiamo buttando via mordendo cacciando come animale adesso invece vi faccio vedere io quindi anche lì comunque ha senso quella molto ironica la Joe Sweden sì in effetti come dice il buon Alessio qui ha senso fino a un certo punto sì ma poi se ci pensate a cosa serve quella rivelazione ma infatti a niente cioè no ma anche bella come scena però nelle proprio nella trama del film con Dracula che fa casino e queste cose qua a cosa serve ma è come la scena dell'umano che uccide il video non serve a niente cioè sta là arricchisce i cinque anni in più di film basta sì però non ha senso cioè veramente sembrava quasi che avessero fatto delle scene giusto per allungare il brodo perché non sapevano come farò durare due ore non mi ricordo nemmeno quanto dura esattamente a me sono sembrate cinque ore mi ha annoiato in una maniera incredibile l'ho messo le dieci e mezza l'ho finita intorno alle non so l'una meno venti ma mi sono sembrate veramente sei ore sei ore dura un'ora e cinquanta più dieci minuti nella versione stesa con le scene in inglese una palla una palla totale cioè mi dispiace ma io l'ho trovato estremamente noioso estremamente noioso poi eh Andrea dato che ti piace Ryan Reynolds come personaggio ti faccio commentare la gag sul tempismo no di lui che scherzo un po' come quella di Iron Man 3 però Iron Man 3 aveva un tono tutto suo Blade Trinity insomma perché qua i momenti di umorismo corzono da morire secondo me con il tono generale del film che vuole essere più dark più serioso e poi c'è Hannibal King che fa l'idiota in continuazione è bellissimo è bellissimo perché perché fa l'idiota cioè considerando che poi scusami adesso entriamo il mio di questo discorso ma io mi devo sorbire un'ora e cinquanta dei film tra i vibratori dei vampiri la bevanda i vulpini il pacman un vulpino il rivolence che purtroppo rovinato cioè ma meno male che c'era il personale di Rai Arena almeno ti fai quattro risale c'è un film demenziale ci stai te lo guardi tutto quanto a parte che è figo a parte che ti ripeto sembrava una sorta poi il cartellino fuck you no cioè e ovviamente quando entra ovviamente sta prendendo in giro un po' tutti quanti ma a me mi ha fatto le blade cosa vuol dire fuck you che cosa mi rappresenterebbe è umorismo idiota cioè nel senso sta entrando fa effetto scena come un cretino entra e fa fa delle batture oppure poteva scrivere cracker sul sì ma fa delle batture tutto quanto ma tanto il personaggio è quello cioè non non deve fare altro poi hanno provato secondo me Goyer a capire che era un film del cavolo gli hanno messo il simbolo sull'inguine e l'hanno anche inquadrato secondo me lui cercava di prendersi anche le fan femminili per farlo partire e tutte quante è voglia Andrea eccolo no no è un personaggio stupido sicuramente ma a parte sono sincero è un personaggio stupidissimo però ti posso dire è l'unica cosa che sono riuscito ad apprezzare perché tanto è scritto per essere stupido fa lo stupido basta non deve fare altro quell'altra sembrava un'electra fallita con le frecce a un certo punto ah non posso colpire da qua allora prende la freccia di rimbalzo che colpisce quello colpisce quell'altro e colpisce il bambino vabbè che poi secondo me aveva fatti pochi di falco volevano fare in qualche modo ma non ci sono riusciti e gli è riuscita male però almeno ho apprezzato la coerenza del personaggio è cretino dall'inizio del film fino alla fine basta ma io vorrei parlare della scena in cui fa cadere giù i colpini dal palazzo si gira fa il dito basta cade giù ma la cosa veramente assurda è perché colpisce la sbarra di metallo piegandola manco fosse colosso in forma di metallo cioè perché quella barra si piega non è un superumano eppure la barra si piega manco gli fosse caduto addosso Godzilla ma che cacchio è oltretutto mi chiedono una cosa mi chiedono ma se tu sei un vampiro dovessi essere molto più forte fisicamente giusto ma Raynus che tiene in testa un vampiro con la forza perché per di più un vampiro che è triple age lascia vedere può essere anche chiunque comunque a parte tipo lecce porca miseria l'avrei aperto in due però non ha senso lo stesso perché tecnicamente se tu se nelle serie tv quando si parla di vampiro e tutto quanto il vampiro è sempre molto più forte fisicamente di un umano animale un vampiro questa possiamo provare sì possiamo provare a giustificarla appunto perché era un ex vampiro era un familiare poi è stato morso da Danica vabbè altro personaggio su cui è meglio stendere un velo pietoso e poi lo hanno curato io così ho capito è stato curato da una specie di versione preliminare del virus sì ok quindi magari secondo me è la cura che si era vista nel primo film quella fatta dalla dottoressa se questo team conosceva Weezer Weezer gli avrà passato la cura della tizia sì ma non viene spiegato non viene spiegato neanche come viene no non lo dicono si sa soltanto che è un un ex vampiro e tutto quanto ma io penso che però non dovrebbe conservare la forza che vuol che non ha senso sinceramente boh non si capisce deve quindi fine ma l'ho detto all'inizio live abbiamo passato due film a menarla con Blade è l'unico vero cacciatore di vampiri perché è l'unico che ha la loro forza e qui tutti li picchiano ma anche lei la Jessica B li picchia facilmente ma com'è possibile se dovrebbe colpire poi fare ah la mano o non lo so dai un tirapugni d'argento come in quella tamarrata di Dylan Dog che qui avrebbe anche avuto più senso che in Dylan Dog allora gli dai il tirapugno e questi sentono l'argento casca giù ha senso sì sì ma poi non ha senso non ha senso un'altra cosa il fatto che Abigail a un certo punto lancia la freccia che contiene questo antico per bloccare il virus e lo niente la dravula ok Blade rimane a terra Hannibal riesce a liberarsi perché poi Damica sta morendo e tutto morte da Steve oltretutto ma la domanda è che fine fanno poi Abigail e Hannibal non ci spariscono loro aspetta no no ci arriviamo tra poco aspetta con calma perché qua sì è voglia aspetta aspetta peraltro volevo dirvi che Hannibal King nei fumetti non è un personaggio che io conosco moltissimo però è un detective vampiro ed è molto più figo di questo molto anche se ripetiamo non è malaccio come personaggio nel film infatti io concordo con Andrea secondo me è forse uno dei pochi pregi di Trinity ma solamente che Reynolds è simpatico cioè ci può anche stare come caratterizzato però ripeto secondo me stona col tono quello è l'unico problema cioè è proprio l'elemento comico che non c'entra nulla con il resto ma mi spieghi solo quello mi spieghi che cosa c'entra realmente con tutto cioè tutti gli elementi che fanno parte di questo film che cosa c'entra l'uno con l'altro assolutamente nulla non c'entra capito almeno apprezziamo il contesto apprezziamo il contesto di Ryan a questo punto io tiro in mezzo il fatto che appunto sbuchi fuori così a caso la figlia di Weasler la figlia illegittima sì che comunque a me non è non è dispiaciuta al 100% ma proprio ma proprio il concetto a proposito Weasler aveva una figlia illegittima oltre alle due uccise dal vampir cosa da quando perché e poi ho letto che quella lì inizialmente doveva essere una Van Helsing e a questo punto avrebbe avuto più senso c'è un dracco la figlia anche da Van Helsing no sì invece una Weasler perché giustamente Van Helsing sarebbe stato troppo stupido no ovviamente eh infatti infatti Blake invece intelligente esatto esatto molto molto peraltro c'è una curiosità non so se lo sapevate Wesley Snipes il mitico voleva a tutti i costi una scena di sesso col personaggio di Jessica Biel però non la inserirono lui si era proprio in posto voglio una scena di sesso con ok va bene penso che vorremmo un po' tutti una scena una scena del genere una cosa del genere però mi dispiace ma non lo hanno accontentato ma per carità chiamalo stupido ma che pro cioè la scena di sesso con no così a caso cioè allora in realtà a sto punto quella gira un po' cioè i porno funzionano più o meno così oh ciao ciao piacere piacere be piacere in big che riscopiamo ok vai cioè fossimo in un porno anche se l'avessero fatta allora aveva ancora più senso rendere la nuova Nelsing cioè il vampiro diurno che se la fa con la discendente del più grande cacciatore di vampiri avrebbe anche avuto un suo senso in quel caso lì sì 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 però di base come dice Federico è senza senso cioè proprio boh se non sbaglio hanno anche tagliato una scena in Blade 2 in cui lui doveva fare le cosacce con la vampira di cui si innamorava quindi sì cioè niente Snipes è proprio è fissato è fissato Snipes è un indigeno il biscotto e non ce la fa Snipes è un chiodo ma parpado fermato vabbè ci sta diciamo che Snipes è un maschio che non riesce a cuccare no comunque è vero ha detto bene a Fede le cinetere i Boris stanno bene su tutto cioè comunque è verissimo esatto poi allora voi avete visto la scena del titolo di coda utilissima assolutamente di lui che è in macchina e va ad alta velocità così senza il che non ha senso perché perché il film finisce con lui che va in giro in moto quindi mi hai già mostrato che vede a fare in giro no allora no allora aspetta aspetta spieghiamo un attimino lui prende la moto poi un certo poi le maggiore la GTA 5 cioè prende la moto poi scende ruba una macchina e prende la marcia hai capito c'è c'è del cringe ma in realtà c'è del film in questo cringe sì 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 poi qualcuno ha capito perché o no come abbiano fatto Hannibal ed Abigail a trovare Blade all'interno della stazione di pulizia dell'FBI di quello che è e soprattutto perché lo cercano adesso cioè ho capito è una retcon sicuramente perché loro esistevano da prima viene fatto capire però perché non hanno giustificato la loro presenza o meglio assenza nei film precedenti cioè perché lo trovano adesso l'introduzione dei Night Slayers è completamente buttata là posto che qualcuno mi deve ancora spiegare perché dire siamo in cellule dormienti se ne fa via una entra in scena l'altra scusatemi ma andate tutti addosso dai vampiri insieme che cacchio fate una alla volta è la stessa cagata alla base di baffi solo che io almeno era un po' più giustificata col fatto che era unito dei tempi di cui c'è solo una cacciatrice per tutto il mondo e questo sì che ti aiuta a combattere i vampiri solo che lì effettivamente la serie tratta la cosa come un problema io da come l'ho intesa semplicemente Blade aveva Whistler nel momento in cui non lo ha più devono arrivare gli altri a prenderlo però Whistler era già morto quindi potevano andare da lui in quel momento sì infatti sì infatti va vabbè poi Andrea senza parole cioè Andrea ogni volta ogni lunedì lo lasciamo senza parole sto cercando di darti una risposta più sensata possibile ma effettivamente posso dirti guarda l'hanno beccata la stessa cosa sia perché magari hanno ha creato i servizi la rete posso darti questa giustificazione perché non l'hanno fatto prima perché probabilmente usando c'erano le dormienti loro prima del Blade 3 erano c'erano le dormienti oh Blade 3 reattiviamo io ci sono esplosti sono scappati fuori che poi il discorso di baffini semplicemente avevano paura ad avvicinarsi a questi snipes e io in effetti questo c'erano a buoni tutti che poi il discorso il baffini mi ha fatto il privato dire perché c'è una cacciatrice per ogni generazione ma sembra che i baffini sono tanti assani cioè tutto il mondo non c'è un bambino quindi vanno tutti assani se avevano una cacciatrice e là sarebbe ok esatto però il punto è questo la serie andando avanti tratterà questa cosa come una stupidaggine in questo film la cosa sembra sempre sensata ma non lo è coloro che vanno vestiti peraltro per New York così in quel modo noi abbiamo avuto The Punisher che andava in giro per New York con 70 pistoli in corpo e nessuno si è fatto una domanda penso che questa cosa possono farlo tranquillamente era quello il riferimento volevo portarti proprio là hai capito benissimo cosplaying sono un cosplayer ma nel giro mi pare sì poi allora parliamo del finale del combattimento finale perché aspetta no no parliamo proprio della morte di Dracula di Drake perché c'è Abigail che lancia una freccia scocca una freccia lui la blocca la butta per terra vicino a Blade poi viene colpito nuovamente e Blade usa la freccia che è caduta per terra che gli ha messo proprio lui accanto cioè proprio io vabbè vedevo il non lo rivedete da un po' di tempo quindi mi ero dimenticato ma è veramente di una stupidità allucinante perché butta la freccia proprio accanto a Blade del tipo colpiscimi colpiscimi poi è possibile che questo sia così immortale no e muore per una cosa del genere cioè ci fanno le pippe no più e più volte per tutto il film eh io sono il primo non sono come questi voi siete deboli e anche tu sei debole anche tu sei debole ti cito ti cito un riferimento facciamo i collegamenti all'MCU con Ruins con Electra te lo ricordi quello che se lo prendi a cortellate non muore ma se gli cagli un albero sulla testa esplode stesso ragionamento uguale identico vabbè vogliamo parlare di Dark Phoenix con gli alieni indistruttibili se li creveli di colpi ma dai crollo gli spezza il collo e va benissimo è morto bravo bravissimo ci stiamo esattamente quello ragionamento no ma fa ridere veramente perché quella freccia poi cioè io con la freccia la lancio ci può stare cioè è come se tu sei in una partita sei un difensore blocchi la palla sulla linea poi ti fermi aspetti l'attaccante che segna lo stesso non ha molto senso sinceramente come cosa però lì secondo me conoscendo Snipes Dominic esatto si chiama Dominic Purcell quello che ha fatto Drake lui voleva ha detto a Goya io prendo la freccia e la lancio Snipes che ha detto se lo fai ti spezzo in due quindi tu posti la freccia vicino a me e io ti colpisco sì bisogna dire anche che il casting di Dominic Purcell è uno dei più sbagliati nella storia del cinema cioè è proprio l'ultimo attore che dovresti considerare per il personaggio secondo me che poi mi sta a Delle moro e poi aggiungere un'altra cosa ferma la freccia e poi si gira per finire Blade facendosi colpire da una seconda ma scusami prima ammazza quella che ti sta colpendo con le frecce e poi preoccupati di quello che hai già steso no? vuoi troppo vuoi troppo tra l'altro sì ma stanno a fine film ma il film devi finire a un certo punto non puoi andarla troppo oltre se no troppo troppo forte è un finale banale troppo commerciale allora parliamo di queste cose qua perché è interessante qual è esattamente discutiamone l'evoluzione di Blade cioè come cambia lui dall'inizio alla fine di base l'unico cambiamento che in realtà fa ma fatto malissimo fatto veramente non da cani che forse Fantastic Four è un capolavoro in compenso è il fatto che lui passa dall'odiare la cooperazione al accettare noi compagni fatto male da morire ma non c'è un'evoluzione anche c'è un problema però quando finisce c'è la voce di Ragnanellus che dice Blade era sempre là fuori a fare quello che gli riusciva meglio come se agisse comunque da solo quindi l'operazione non parte sì infatti non è che finisce con la macchina e Blade dice andiamo a fare il curo tutti assieme amici miei fratelloni compaglioni della vita io mi offro la pizza dopo che gli abbiamo uccisi sì però durante il film prova un attimo a coverare ma fa abbastanza ridere anche come lo fa ma non c'è un'evoluzione del personaggio manca forse il personaggio di Abigail fa una buona discreta evoluzione da quando esordisce a quando arriva la fine forse ma io veramente voglio estendere la domanda chi è il personaggio che ha avuto un'evoluzione in tutto il film oltre a Blake oltre a a Blender cioè c'è stato più che altro no qui si è evoluto da vivo a morto sì beh anche anche Drake a questo punto esatto si è evoluto da coglione a coglione morto Drake è piatto Drake è piatto cioè sono tutti mono moltimensionali sì no ma più che altro io ti faccio questa domanda perché mi interessa la versione la scena alternativa il finale alternativa no? di cui parlavo anche prima Travatar cioè lui che aggredisce i dottori e poi il finale cioè il film si interrompe là perché non ci fa vedere se lui uccide effettivamente la dottoressa e là uno potrebbe dire vabbè quindi ha ceduto o no alla sua sete di sangue ma questa è un'involuzione fatta a caso fatta completamente a caso perché lui per tutti i tre film non ha ceduto all'impulso perché adesso sì da capo perché gli ha detto Drake al finale se ti ricordi gli fa la tua alla fine cederai all'impulso ma no aspetta un conto è dire tu cederai all'impulso del tipo ti la sta tirando un conto è cedi proprio l'impulso cioè non è un comando cioè non è cedi adesso non ha senso ma scusatemi quando si sveglia quello che si sveglia io avevo capito che era sempre Drake trasformato perché aveva la lingua e la bocca alla Drake non avevo capito cioè io credo che fosse Drake non Blade no quello mi sa no è proprio Blade non è non è Drake nella versione cinematografica è sicuramente Drake perché viene recuperato il corpo di Blade ma poi si ritrasforma come detto tu prima ma quello nel finale è al 100% Blade e oltretutto curiosità avete presente l'inquadratura di lui con gli occhi chiusi quando apre gli occhi gli occhi sono fatti in CGI perché Snipes si era rifiutato di aprirli non voleva collaborare vi giuro non voleva collaborare in quella scena non voleva aprirli e gliel'hanno aperti in CGI allora io adesso sto riguardando la scena nel finale perché spieghiamo all'arcadio mistero se è Blade o Drake allora intanto siamo su tavolo Obitorio lui apre gli occhi prende tutti comincia a menare come se fosse il nero che poi Obitorio dovrebbe essere nudo no c'è il boxer vabbè non si sa perché io non mi ricordo che si trasforma in Drake sinceramente ma non fa vedere ma avendo la bocca alla Drake pensavo fosse lui cioè questo è il punto la bocca sembra quella di Drake con la lingua e tutto no raga perché nella quando inizia l'Obitorio lasciando l'Obitorio non fa vedere nessuna bocca quello deve essere Blade è Blade è per quello infatti è ambiguo per quello non è Drake cioè praticamente lo prendono che era fermo a terra perché aveva verso i sensi cioè deve essere morto lo portano sotto all'Obitorio lo apre gli occhi comincia a menare ma non fa vedere neanche la bocca che si apre si ferma la inquadratura con lui che sta per mordere la dottoressa e poi c'è la meravigliosa scena in moto con le macchine fatte da schifo oltretutto cioè sembrava una sovrapposizione di un montaggio fatto malissimo ma allora ancora meno senso cioè scusami se poi c'è se poi mostri Blade che sta comunque andando a caccia dei vampiri allora non dovrebbe essere di aver ceduto del tutto adesso è diventato un vampiro infatti cioè il mistero di quella scena non ha molto senso perché se tu me la vuoi rendere ambigua dovresti togliere le parti finali e anche la scena con Reynolds che parla in sottofondo che dice dalla parte dell'umanità aiuterà sempre darà sempre la caccia dei vampiri no perché se tu stai cedendo all'impulso vuol dire che qualcosa non va oddio è vero quegli occhi sono finti madonna sta riguardo la scena ma quella scena non l'ha avuto minimamente non l'ho capito neanche io io ho detto vabbè Blade avrà ceduto però ma così già cede cioè mi sembra tipo quello che sta in bilico bocca 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 e è caduto subito non ha non ha una grande evoluzione ma non avrebbe dovuto cedere è quasi il punto ma magari cederà fra qualche anno un giorno gli verrà male ma non così presto dopo due minuti ma in realtà qui sorge un altro problema cioè come ho detto all'inizio live questo film ti presenta la possibile soluzione finale al problema dei vampiri perché Reynolds qui dice una cosa giusta la guerra contro i vampiri è una guerra che non ha senso perché tu puoi ammazzarne quanti ne vuoi ma questi tanto col fatto che mordono non si estingueranno mai e quindi crei il virus alla fine il virus viene creato e quindi dici il virus è creato ormai i vampiri si estingueranno e via e invece no il virus viene creato poi viene dimenticato Blade era sempre lì fuori e allora il virus a cosa è servito creano questo virus per eliminare la razza dei vampiri ma in realtà serve per eliminare quattro vampiri dentro un magazzino cioè non serve neanche perché funziona in un raggio d'azione limitato oltretutto io non mi accontento molto della spiegazione che fa Natasha Young dice ci serve il sangue di Dracula per perfezionare il vaccino il virus più che altro in questo periodo faccio confusione però quello che dovrebbe essere il fulcro del film di fatto non lo è perché loro non prendono mai il sangue di Dracula cioè solamente nel finale quando Blade lo colpisce con la freccia succede quello che succede e diffonde tutto nell'ambiente in una versione come dire meno potente perché il virus iniziale avrebbe dovuto esterminare tutti i vampiri mentre questo qua uccide solamente quelle nelle vicinanze sì ma c'è un problema non viene neanche spiegato di preciso come funziona il virus cioè si dovrebbe appunto diffondere via aerea via tramite il tocco è una malattia veneria come i vampiri non viene spiegato nulla e poi diciamocelo parlando appunto del finale a un certo punto Reynolds dice un'altra cosa che secondo me è molto interessante ovvero Blade ma hai mai pensato a cosa cacchio farai una volta che avrai ucciso tutti i vampiri cioè perché quando tu sei così votato a un obiettivo nel momento in cui tu quell'obiettivo lo ottieni infatti se volevi far finire la trilogia io lo dico Blade doveva morire Blade attiva il sangue di Dracula il virus uccide tutti compreso lui ma Blade muore in pace perché si è reso conto che ora ha creato l'arma che ucciderà i vampiri e la frase finale di Reynolds era Blade è morto ma non è morto in vano il virus si sta diffondendo iniziamo già a vederne gli effetti abbiamo vinto sì infatti se ci pensi non ha nemmeno molto senso la tensione che ti mettono a un certo punto nel film quando dicono oddio Blade stai attento perché il virus potrebbe ucciderti e infatti non muore perché lui è un ibrido vampiro umano esatto che ha un riferimento al primo film quando lui diceva a un certo punto ok mi curo ma la tutela si diceva guarda che però se ti curi tu smetti di essere un mezzo vampiro e infatti quel film finiva con Blade che diceva alla dottoressa ok vuoi aiutarmi non curarmi ma fai un siero che riesca a tenermi a bada meglio però appunto cioè ci stava in questo caso similmente ad Iron Man in Endgame muore Tano se Iron Man può riposare muoiono i vampiri Blade può riposare proprio nel senso la sua vita ormai ha avuto compimento e invece no ma appunto perché mettere quella scena lì cioè ha senso chiedersi cosa facciamo una volta che abbiamo sterminato tutti i vampiri ma allora appunto per vedere che Blade non può vivere senza sterminare i vampiri allora uccidilo con i vampiri muore il primo vampiro e tra virgolette l'ultimo cioè il stadio successivo dell'evoluzione sì perfetto ma infatti secondo me quello che hai detto tu potrebbe essere il finale di un ipotetico terzo film di Blade con Marshall Ali cioè ce lo vedrei bene anche perché lui non so per quanto tempo lo puoi sfruttare a livello commerciale perché oddio come attore è un mostro però ha una certa età sì sì infatti è vero che ci sono sicuramente le controfigure però lui ha una certa età infatti molti pensano che probabilmente introdurranno molto presto la figlia di Blade che c'è anche nei fumetti e quindi sì possibile prima che annunciassero Marshall Ali si era ipotizzato di iniziare subito con lei e Blade ormai l'abbiamo già visto sfruttiamo la figlia facciamo vedere un vecchio Blade che più o meno ricordi l'originale pur senza essere lui e via che ci poteva stare sì sì attenzione io non parlavo di quel finale alternativo ma dell'altro finale alternativo quella con Drake no 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 allora ah ok tre finali sì ho capito quello di Blade che si sveglia è quello che voleva sapere Andrea prima esatto perché è quello che davvero ci divertiamo benissimo adesso adesso gliene parliamo così lo diciamo anche a chi ci sta seguendo perché a me posso dirlo quella scena ha gasato e penso anche a Travatar che dato che è amante anche dei dei licantropi e dei insomma posso dirlo mi avrebbe gasato se fosse stato messo in scena in un altro modo ok su quello sono d'accordo però se fosse stata decente ci poteva anche stare come sviluppo futuro assolutamente tutto sommato cioè non era male la descriviamo ad Andrea che si starà chiedendo ma di che state parlando cioè questi che cosa stanno dicendo io ho visto tanto la scena quella degli sveglio e mi è bastata non voglio scoprire altro non voglio scoprire no invece questa ti consiglio di vederla in pratica nel finale alternativo sempre presente anche nei contenuti speciali Abigail e Hannibal vanno a Shanghai la scena è metata sei mesi dopo il finale e scoprono che stanno facendo degli esperimenti con degli ibridi vampiro licantropo tipo Underworld sì in pratica sì altra curiosità ad un certo punto si era pensato di fare un crossover con Underworld cosa che tecnicamente non ha senso perché non è una proprietà Marvel cioè non ha minimamente senso però c'era quest'idea poi fortunatamente sono tornati i Marvel Studios i diritti cosa che non ha senso perché i vampiri di Blade non sono come quelli di Underworld hanno molte tratti in comune ma non esiste nel mondo che in Blade non abbiano mai nominato i licantropi quando in Underworld la guerra vampiri e licantropi e così via comunque guarda Andrea ti consiglio di vederlo ma ti posso dire che secondo me sarebbe stato un finale molto più interessante di quello che ho visto e avrei approfondito uno spin off appunto allora avrebbe avuto senso se appunto avessero fatto il finale che dicevo io con i Night Stalker che dicevano che abbiamo finito con i vampiri occupiamoci di altro esatto il problema è che quel lupo mannaro che si vede per due fregni è una delle cose più brutte che io abbia mai visto ma che cacchio è quello schifo come faccio ad esaltarmi con un lupo mannaro così un lupo mannaro mappetta sarebbe stato meglio guarda sì la resa è brutta però l'idea capito quello che dicevo sì però appunto il problema è che l'idea se poi mi lamentisce la male non mi casa per niente sì 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 mi piace vero bellica un po' di Van Helsing era figo come Thor Red Zoll quello mi era piaciuto o bro il pompato di steroidi vabbè la figo ah peraltro è nel blu ray ma basta fare Blade Trinity Werewolf Elton Raitending lo trovi sì sì esatto vi consiglio di guardarla quella scena e poi questa è un'altra cosa che volevo dire ah vabbè poi sì c'erano effettivamente delle discussioni sullo spin off sui Night Slayers che io forse avrei visto forse se fosse stato scritto un po' meglio rispetto a questo film perché ripeto almeno Hannibal ed Abigail un minimo si salvano un minimo ma perché secondo me è proprio il fascino dei cacciatori di vampiri magari anche di mostri capito quindi anche di licantropi e di altre creature sopranaturali poi non se ne è fatto più niente perché poi parliamoci chiaro Blade Trinity è più un film su di loro che su Blade cioè questo è il problema secondo me vero e proprio oltre a tutti quelli che abbiamo elencato e alla sceneggertura pessima e ai problemi produttivi con Snipes che dava di matto non è un film su Blade beh no un film su Blade su Blade è sicuramente un film su Blade soltanto che non è più soltanto Blade ma ci sono anche qualcun altro che può sì vabbè ma ci sta nel senso non può sempre essere tutto Blade cioè di pure fa vedere un Blade che ci prende di schiaffi a un certo punto cioè non è ma io non sto dicendo che deve prendere che non deve prendere gli schiaffi ma non è proprio un personaggio importante lui nel suo film ed è il protagonista e non lo è non ha manco un arco narrativo diciamo che creano creano sto villain assolutamente super pompato potente per dare la caccia a qualcuno ma non se lo filano non si incontrano quasi mai non è che si mirano quasi quasi da quello è il problema cioè hai creato hai creato sto grande problema che poi alla fine non serve neanche a nulla perché noi abbiamo parlato dei protagonisti ma parliamo un attimo di Drake ma Drake a che servito lì preciso a parte la sua costruzione antica millenare inutile che io come ha detto Travatar voglio sfidare che ai tempi dei sumerici gli andavano in giro vestiti con quelle armature che secondo me non esiste come cosa però Drake è come se tu compri un carro armato e poi vai in giro con la pistoletta d'acqua cioè anche lei compra da fare il suo carro armato cioè tanto vale che tiravi fuori qualcos'altro poi mi continui riferimenti a Bram Stoker ma facendo vedere che Bram Stoker in realtà ha copiato questo Dracula e tutto quanto anche lì avrei molto da dire perché poi si lamentano le community si lamentano perché il personaggio di Dracula viene sputtanato ma tu puoi veramente creare uno store con il Dracula vibratore cioè ragazzi sinceramente e poi soprattutto hai fatto quella scena ok ti sei fatti i seguaci manco fossi Apocalisse con i cavalieri dell'Apocalisse ok tutto figo poi combattimento dà la durata di due ore e due minuti e trenta cioè mi sembra veramente tipo Venom tanto bisogna in fronti radio Venom contro Riot dura uno scontro di tre minuti forse scarsi ma doveva essere lo scontro dell'anno doveva essere capito ma poi questo qui dovrebbe essere appunto un grande condottiero in realtà è una marionetta cioè il cagnolino indisciplinato degli altri vampiri cioè lo sto lo trattano come se lui fosse uno che c'è un problema mentale sembra che lo dobbiamo lasciare all'angoletto cioè guarda a sto punto preferisco rivedere quello di Luke Evans in Dragon Ballant almeno lì c'era un senso era un condottiero anche se fa schifo se per il secondo film ma almeno aveva un criterio potrei che sembra oddio lascia volare all'angoletto che è pericoloso è un'arma che può scoppiare poi va in giro tranquillamente e tu dici niente intanto c'è un commento di signore non so se posso leggerlo non credo ah vabbè io ah vabbè Dracula vabbè anche per ragazzi intanto siamo sempre là siamo dai guarda che io fossi stato in loro avrei fatto che Dracula prendeva quell'affare e diceva questo è fuoco per i miei lombi dando un capolavoro della DC bello il grande Joker di Leto esatto in versione di Gesù o ti giuro andiamo a litigare o stasera andiamo a litigare io impazzisco il capo argomento eh attenzione perché al momento sto difendendo il Gesù Gesù Leto quindi stai calmo detto ciò va bene dopo aver fatto il pappone mafioso tatuato coatto morto di bisognava trovare un'altra devi rinversi ragazzi quanti personaggi dal mondo del porno passano a fare i frati ho fatto anche Leto dalla di Einstein si mette a fare il frate il frate il sapo l'altro va bene un po' farlo un saluto agli spettatori che ci stanno vedendo in questa live perché non la rivedranno mai più mi sa no no vabbè a parte scherzi e tutto quanto però ti rivedo non mi tralasciando il mio amore per Dracula di Bram Stoker ma non capisco veramente il senso guarda preferisco più anzi Dracula non so se se l'hai trovata tu l'hai visto Dracula della serie Netflix il terzo episodio non so se ti hai capito ma so cosa succede preferisco quello a sto punto posto che hanno criticato anche quella no sono tre episodi da un'ora e mezza ciascuno il primo episodio bellissimo poi c'è stato tipo una giù sono andata impicchiata nello schifo totale però era Moffat giusto che la scriveva non mi ricordo adesso si si era Moffat infatti tutti dicevano un po' come Sherlock che bella ma a un certo punto ci sono delle forzature qui io so io so che sostanzialmente questo qui è il Dracula effetto placebo da quel che mi hanno detto poi la serie non l'ho vista quindi non approfondire beh meglio di Drake sicuramente poco ma sicuro a me ci vuol poco credo che a livello di bruttura questa ce la conteniamo giusto con l'amantide religiosa del Dracula di Argento c'è Connor che ha fatto una domanda interessante secondo voi coinvolgeranno in qualche modo Snipes nel Blade con Ali magari per un camion guarda non credo non credo anche non penso anche perché c'è una dichiarazione che vi volevo leggere di Snipes che è un po' preoccupante vediamo se la trovo in cui gli chiesero ma secondo te chi è il migliore attore no? per 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 Blade no? e disse wow chi potrebbe essere questo ragazzo uno in grado di abbattere l'idea del mondo di come dovrebbe essere Blade non ci sono tanti ragazzi che sanno danzare fare arti marziali recitare bene e avere lo stile di Blade non ci sono tanti ragazzi neri in grado di farlo sarebbe una scelta difficile dovrebbe essere in forma e avere sex appeal il fo puntini puntini Uto Blade a sex appeal voi conoscete qualcuno? ah poi disse una cosa interessante disse hanno già provato a fare un recasting durante le trattative per Blade 3 cioè questo qua inizialmente ho rifiutato allora l'agenzia mi ha detto hai fino a mercoledì per prendere una decisione oppure sceglieranno un altro attore e io ho risposto cosa? abbiamo fatto due film e mi stia dicendo che se non voglio fare il terzo film lo faranno senza di me con un altro attore di non funzionare così e lui fa ok devi richiamare altre persone abbiamo già deciso di non farlo alla fine però sapete come sono andate le cose come è andata a finire la storia poi disse su twitter quando tutti ti chiedono chi sarà il prossimo Blade ma tu sai già che c'è solamente un Blade cioè lui è convinto di essere Blade è pazzo dice Federico cioè con tutto il rispetto per Wesley Snipes che a me sta anche simpatico però è proprio fuori è fuori come un pallone quindi secondo me non gli chiederanno mai di fare un cameo e se la prenderà se la prenderà cioè secondo me a Fagli piacerebbe ma vedendo che tipo è proprio per per la cuiete del set direbbe ok lasciamo stare va bene sì sì guarda comunque io mi aspetto le critiche da parte sua cioè sono convinto che arriveranno del tipo oh no erano meglio i miei film questi sono per bambini convinto convinto posto che io dico sempre che quando si fanno remake e reboot una delle cose più sbagliate che puoi fare starà a sentire chi ha fatto i precedenti perché non saranno mai non saranno mai obiettivi sì ma poi perché fare il confronto io ho tenuto sì ma questa cosa nel dire ah il regista del film originale non è favorevole alla idea del remake quindi guarda queste dichiarazioni se le può permettere ma non le fa perché ha un'umiltà meravigliosa Hugh Jackman con Wolverine lui potrebbe farlo sto ragionamento tranquillamente anche se non lo fa ma non lo fa è un signore Hugh Jackman no è un signore però se lo può un giorno di matto se lo può permettere ma Wesley Snipes queste dichiarazioni no anche perché nel momento in cui uscire a nuovo Blade e lui aveva la bocca la gente manco di la retta questo film di che anno è? 2005 no? 2004 quindi sono già passati 17 anni da quel Blade in carità un Blade iconico a me i due film piacciono molto Snipes perfetto per la parte diciamo che se lo ricasti per l'MCU non è che questa gran distruzione di un'icona i primi due film resteranno ma lui tranquillamente ci saranno i ragazzi sicuramente ma comunque questi film rimarranno nella strada dell'amaro ma a parte di fare i paragoni è sempre nude perché tutto ciò che faranno sotto l'MCU sarà tutta una cosa nuova anche perché poi la cultura del cinema ha cambiato il modo di fare le scene cioè quelle scene cringe tipo Daredevil e l'Electra che si preparano anche questo film l'abbiamo tolto ringraziando Dio quindi non le vedremo più fare i paragoni è inutile anche adesso se faranno i film di X-Man fare i paragoni con la Fox è stupido puoi dire sì è scritto un pochino meglio qualcosa qua e là magari c'è un po' più di trama però sta fissa che hanno gli attori di mettersi in mostra o c'è una parola di finire il dimenticatoio ha paura che questo di Ali sia la versione migliore quindi sta rosicando oltretutto c'è una cosa che mi lascia perplesso perché io faccio sempre riferimenti con i film di Star Wars o comunque dei periodi cinematografici questo film è del 2004 Star Wars che è del 2005 l'episodio 3 ha una CGI migliore di questa ed è un anno dopo ma questo è un film fatto con pochissimo budget quindi ti volevo dire anche quanto aspetta che lo trovo ce l'avevo qua allora hanno speso 65 milioni budget incasso 132 milioni un po' più della metà un po' più del doppio si poi bisogna vedere anche quanto ce l'hanno speso a livello di marketing forse qualcosina era entrata ma non è stato sufficiente cioè non è stato un successo per niente comunque sono un po' deluso dalla dalla soundtrack sono un po' deluso sai mi aspettavo pezzi più rocchettari metallari forti tipo la Warzone no? quanto è brutta quella scena Andrea quella in cui c'è Abigail che ascolta la musica sull'iPod ma in realtà ti posso dire che l'idea mi è piaciuta abbastanza per un motivo molto semplice è una cosa che faccio anch'io quando vado in palestra mi mettevo la musica nei cuffi mi immaginavo una sorta di soundtrack mentre mi allena e tutto l'idea è figa per affari dello stesso cioè si imparica però oltretutto c'era una soundtrack che io non capisco perché la metà dei gruppi dei cantanti che fanno non c'è la pagina Wikipedia non si sa chi sono e l'altra metà sono tipo cantanti rapper o gente che fa musica elettronica cioè io mi aspettavo a che pezzo black qualcosa da Sleepknot qualcosa che mi nasse tipo Warzone no niente delusione 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 anche dal punto di vista musicale sì all'altezza dei capolavori cioè persino Elettra forse è una colonna sonora migliore vabbè Elettra no Elettra no Daredevic Warzone c'è un Warzone infatti il film fa schifo da morire ma una soundtrack con il rispetto sincero cioè mi è piaciuta tantissima la soundtrack quindi quindi ci sta sinceramente però anche qua deluso poi c'è Fudomacchio che ci chiede anzi che ci dice tanti dei fan di oggi si dice Blade manco l'hanno mai sentito nominare non ha di certo la stessa iconicità di Wolverine parlo anche solo della della controparte cinematografica sì ma non è tanto quello il problema più che altro io ho notato che sotto i nostri articoli su Blade sul reboot ci sono persone che dicono ah non sarà mai all'altezza di quelli con con Wesley Snipes vi ricordate? però non mi sembra che siano cioè non sono entrati nell'immaginario è vero che li recensiremo ne parleremo li recensiremo in futuro infatti inviteremo nuovamente Travatar per la prossima rubrica però almeno sono belli i primi due film però non sono entrati nell'immaginario al pari di i primi due X-Men i primi due Spider-Man ma persino Fantastici 4 è più memorabile rispetto ai due Blade ma sai che Blade non è un personaggio molto commerciale molto famoso a livello dei Spider-Man dei Fantastici 4 ma guarda secondo me non è non è manco un discorso di famoso perché cioè i Guardi della Galassia Ant-Man ti parlo Capitano Marvel ti parlo a livello pre-MCU oggi se l'MCU fa un film su Squider Girl diventa un capolavoro per tutti quanti questo è un contesto un po' fuori sì però anche per dirti Ghost Rider cioè ma personaggi che sono rimasti forse molti non sanno che Blade era un fumetto della Marvel per esempio perché io so che molte persone erano convinte che Blade fosse una cosa che si è inventata alla Paramount o una cosa trasgressa una cosa trash tipo Underworld pensavano questo è la stessa gente che pensa che la Warpapero sia un film degli anni 80 buttalo lì a casa era tanto un prodotto Marvel non tutti lo sanno Ghost Rider sì si sa un po' di più su di lui è stato un po' pubblici sarò meglio Blade sì è un cacciatore dell'idea di Campini vabbè fa là ma anche Blade 2 con tutto l'amore che opera del Toro è comunque uno dei suoi meno conosciuti cioè il Boy ha già una schiena di fan più nutrita rispetto a Blade e stiamo parlando di una trilogia che non è mai finita perché il secondo non aveva incassato tanto tra l'altro c'è un discorso ben altrista ma abbiamo avuto Blade 3 per Miracolo ma non abbiamo avuto El Boy 3 è vero abbiamo avuto quella cosa oranda di reboot di El Boy non esiste nessun reboot di El Boy non è mai esistito tra parentesi io però quel reboot lo ringrazio perché io ero curioso di comprarmi i fumetti di El Boy ma visto che tutti mi dicono che questo nuovo film è più fedele al fumetto ah quindi anche il fumetto è una merda bene non lo compro e mi spiace pure Mignola è più fedele quindi se lo dice Mignola eh allora non mi spiace non posso criticare il film perché come fumetto allora io non vi leggo il fumetto ti ricordo che anche Chris Claremont disse che Dark Phoenix era molto più fedele alla saga fumetti della Finice Nera quindi quando vengono pagati per dire quelle cose si percepisce si capisce si poi Claremont e Mignola sono due personaggi che non hanno bisogno di essere pagati i soldi ci vanno appalati quello che hanno fatto quindi vabbè sono soldi in più e c'erano altri altri perli sulla sceneggiatura tante volte no sulla sceneggiatura no più che altro volevo concludere con le parole di Snipes quando le sue risposte che ha dato il 2 novembre dell'anno scorso perché dopo anni non so per quale motivo si è ricordato così tardi ha risposto a Patton Oswalt alle dichiarazioni che vi ho detto prima e quindi vi volevo leggere questo disse questo lasciate che vi dico una cosa se avessi provato a strangolare David Goyer probabilmente non sareste parlando con me in questo momento un nero muscoloso che strozza il regista di un film va in carcere posso garantirvelo questa è una parte delle sfide che noi afroamericani siamo costretti ad affrontare in America queste microaggressioni la presunzione che un bianco possa rilasciare una dichiarazione e di conseguenza quella dichiarazione viene presa per vera perché le persone dovrebbero credere perché le persone dovrebbero credere che la sua versione sia vera perché molti sono predisposti a pensare che il nero sia sempre il problema basta solo una persona come Mr. Oswalt che io non conosco ci ha fatto un film vabbè faccio persino fatica a ricordarlo sul set grazie perché non stavi mai ma è affascinante il fatto che sia abbastata la sua dichiarazione per far dire alle persone sì Snipes ha dei problemi però è vero basta vedere le interviste per capire che sì Snipes ha dei problemi e poi se ne esce con questo che secondo me è atroce come dichiarazione vi ricordo che ero uno dei produttori esecutivi del progetto avevo per contratto l'approvazione del regista non ero solo l'attore assunto per il lavoro avevo l'autorità di dire dettare o decidere questo è un concetto difficile da comprendere per molte persone ma questo si chiama abuso di potere sì infatti ma poi scusami è così voi date per scontato solo perché l'ha detto Oswald che io sia un tipo tu non sei finito in carcere mio caro Wesley non sei stato rilasciato solo da qualche anno vorrei far notare non è che pensiamo che sei un criminale per il colore della tua pelle pensiamo che sei un criminale perché per come ti comporti sì esatto ma poi questa cosa dovremmo sempre buttare sul colore della pelle allora che effetti ma quello ci può anche stare sì l'aggressione di un nero ai danni di un bianco sia molto più abbia più riscontro è del contrario è vero ma nel caso specifico caro Wesley hai dato dimostrazione che fossi anche la persona più albina del mondo mi spiace ma sei palesemente è lui nel torto sì esatto non puoi nasconderti dietro il razzismo se sei un killer di tuo capito cioè va bene che tutti i cinesi vengono più bersagli bianchi e ci sta tutto quanto ma non è che se tu sei uno che pesterebbe anche i bambini e i cani dice eh però tu sei proprio malato mentale curativo non si può trovare una logica a questo ragionamento vorrei dire ma caro Wesley tu non sei uno del ghetto che vive in condizioni pessime quindi purtroppo si ritrova a dover usare la violenza come unico mezzo per sopravvivere eri un attore ben pagato che poi tu ti sei strafatto di droga e hai buttato nel cesto la tua vita quelli sono anche un po' cavoli tuoi comunque comunque grazie per l'assist ho un modo per chiudere la live poi poi ci arriviamo leggiamo i compi se non hai altri messaggi una roba di sceneggiatura vado a leggere i commenti vai vai allora Darius di Darius Cinematic Marvel dice adesso voglio dirti perché non riesco più a trovarti su facebook mi devi mandare l'amicizia con 98k il gioco è una delle persone più intelligenti e gentili che ci siano ad Hollywood al massimo potrà consigliare su cosa può migliorare il nuovo attore che interpreta no sì sì ma la mia era una battuta un commento nel senso chi si può permettere paragoni e tutto quanto Fudomaki dice ve li ricordare ha la risposta giusta da dare Darius dice adesso dovevi comprare questa felpa Star Industries questa Disney Store questa Disney Store sì online purtroppo quello mio di Bari ha chiuso durante il lockdown per la crisi non sono riusciti ad andare avanti quindi ormai compro tutte le felpe della Marvel online sul sito ufficiale del Disney Store non vedo l'ora di vederti con la felpa di Venom allora Fede è tutto in teoria non c'è su Disney Store o ha messo nell'anteprima ha messo nell'anteprima di Venom mi ha dato la maschina con la bocca di Venom e la maglietta di Venom mi ha regalato tanto vero Fede dice mamma mia che ti ha amarrata con l'Hellboy peccato che non fa parte del Ruins Marvel perché anche lì una Ruins quell'Hellboy se lo sarebbe meritato totalmente ma non fa parte di questo episodio speciale dedicato a quell'Hellboy io ci sono vi avviso dovrete mutarmi perché ogni volta che penso a qualcosa sparo parolacce veramente anche tu anche tu vai avanti a dito medio quando pensi a quell'Hellboy ma tutti queste direttore tutte dita media perché non è possibile fare una roba spuntare così in faccia facciamo perdere mi muto Simeone fan fact sapete che nel gioco di Ghost Rider per PS2 e PSP nel 2007 puoi sbloccare il personaggio di Blade no non ci ho mai giocato sincero con ovviamente mosse di abita differenti del Rider per esempio poso dello sguardo castigatore e recupera la vita mordendo i demoni bellissimo non ci ho mai giocato Loresbo ma quindi prossima settimana Manthink allora ci sono solamente quattro film restanti abbiamo Manthink che vedrà nuovamente la partecipazione di Travatar poi The Punisher del 2004 Giacomo The Amazing Spider-Man 2 con Cinefomettisti e poi Venom finale di stagione aiuto aiuto che meraviglia io penso che a un certo punto adesso vi faccio adesso vi hai fatto la lista cominciati a fare il mondo di papiro così ma comincia a scorrere mi dovrete calmare quel giorno ve lo dico la live è più lunga della Snyder Cut infatti la live la faremo iniziare alle 6 del pomeriggio così forse per 11 e mezza avremo finito tutto quanto andando in chiusura grazie a Travatar per essere stato con noi anche questa sera ci vediamo alla prossima live quindi già tanto sai dove devi dove devi esserci Alessio non hai cambiato nome durante la live che ti è successo in genere cambi sempre qualcosa di nuovo ma ti posso dire la verità non è che mi abbia dato molti spunti per nickname divertenti questo film cioè a parte il pacman il volpino non è divertente cioè tralasciando Hannibal King come abbiamo detto prima però boh io avrei pensato a un nome tipo la dracola senza zucchero boh così sì oppure il vampi quello che ha detto Simeone prima la dracola a zero dai esatto no adesso mi voglio già immaginare come sono i tuoi sovrannomi durante Venom cioè la proprio poesia e ci sta e vi ringraziamo vabbè innanzitutto vi ringraziamo di esserci sempre di essere sempre con noi lunedì sera tutto quanto scusate anche ancora una volta i nostri problemi di connessione internet ma Wesley Snipes stava uccidendo Gloria sui fili della della stavo sabotando esattamente vi ricordiamo che potete abbonarvi al nostro canale Twitch attraverso il vostro il vostro canale Twitch Prime se non lo fate Wesley Snipes viene sotto casa vostra a corcarvi di botte ma che non finisce più questo era l'assist che mi avete dato per poter chiudermi o si sarei obbligati a seguirci seguite Travatar su Facebook e su Instagram se non lo fate Wesley Snipes vi appare dentro l'armario e comincia a minarmi ancora una volta quindi alla grande o lo fate o lo fate noi ci vediamo venerdì ore 21 e 30 per parlare di Bandavision con sempre il nostro Alessio insieme a Luigi e il terzo lo sapete soltanto voi forse Sara o Ivan uno dei due o Sara o Ivan quindi tranquillamente noi ci rivediamo sempre con Ruins lunedì prossimo e niente detto ciò ragazzi buonanotte fate bravi mi raccomando non andare a meno alla gente insieme a Wesley Snipes state tranquilli e via buonanotte a tutti ragazzi buonanotte ciao